Buonasera navigatori, vi comunichiamo che la live che non stavate cercando avrà inizio tra pochi minuti. Siete pregati di restare calmi e rilassati e di sistemare i giochi a mano negli alloggiamenti sotto la vostra poltrona. Durante lo show le domande saranno bene accette. Non sarà tuttavia tollerato alcun atto illecito, quale insultare, diffondere comunicati non ufficiali, dar da mangiare a tucani, cambiare lo stile dei capelli, lavare la macchina, insegnare pallacanestro acquatico alle vongole e altre citazioni di Monkey Island 2. Durante lo show non verrà fatto del male a nessun animale. Non possiamo tuttavia garantire che i Canopus non ne mangi uno nel mentre, compresi quelli considerati estinti. Vi ricordiamo che lo show durerà all'incirca due ore terrestri e potrete recuperarlo in versione integrale indifferita in un secondo momento, da consumarsi preferibilmente entro tre giorni dall'apertura. I giochi mostrati nello show sono gentilmente messi a disposizione dai nauti, non a scopo di vendita. Che fai, tocchi? Ma potete reperirli nei negozi di distribuzione che più si avvicinano al vostro gusto personale. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale, fatta eccezione per le persone vere. Spegnete i cellulari e godetevi lo spettacolo. Sono esonerati gli spettatori che guardano lo show da cellulare. Grazie mille per l'attenzione e per aver scelto Gioconauta per il vostro viaggio nel gioco. Allacciate le cinture, lo show sta per iniziare. Buonasera a tutti. Buonasera, bentornati alla live di Gioconauta. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Che si dice? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, vi vedo tutti stanchi, cavolo. Si vede che ormai l'età qua si fa sentire. Siete come la forza di cinto bovi che sono quelli che ho mangiato per cena, praticamente. Quindi sottrai la forza da quello che mangi, interessante. Beh sì, in realtà funziona proprio così, al netto della digestione. E del cui sei quello che mangi, dicono, no? Sì, allora nel mio caso non so quanto sia un buon complimento questo. Beh, tu sei una chimera, dai, diciamo che sei. Io avevo un mio collega che diceva sempre, Davide, mangi cibo spazzatura, che è un eufismismo per dimmi quello che mangiavo. Se l'uomo ciò che mangia, tu sei perché una... E ci fermiamo qui. Ah, perché è una parolaccia quello che si diceva. Ah, ho capito, ho capito. Bene ragazzi, che dire di nuovo in live, 6 marzo 2024, un argomento stra interessante perché dobbiamo affrontare i libri, i fumetti, ma soprattutto i giochi abbinati ad esso. E a farlo ci sono quattro personaggi che andrò a presentarvi. E parlando di libri, ognuno di questi viene associato a un libro particolare. Partiamo ovviamente da quello più antico, dal doc, che più che un libro è una tavoletta in pietra. Ti stavo aspettando, ti stavo aspettando su questa cosa. Scolpita nella storia, no? Sì, sono uno di... sei quelli dei codici di Hammurabi. Esatto, esatto. Quindi sento più egiziano, più sumero. Quali sono le origini del doc? Ma... mi sento più sumero-babilonese, sì. Sumero-babilonese, più uniforme. E cuneiforme, esatto. Sei spigoloso, quindi. Ok, interessante. Invece chi ha creato un ciclo di libri... Non ce la posso fare. Con il cercatore, con i mitili di Cthulhu. Nel senso che è una raccolta di molluschi, perle e oggetistica varia del mare. Ti senti un po' così, cercatore, no? Sì, assolutamente. Vabbè, lì è i mitili di Cthulhu. I mitili di Cthulhu. Comunque, perché in realtà, il cercatore viene da un libro, dalla serie della Spada della Verità. È un fantasy. Aspetta, Scenara? No, neanche parenti. No, perché c'è la spada, sai, quando c'è la spada e fantasy, viene la spada di Scenara. Ci hanno fatto anche un gioco da tavolo? No, ci hanno fatto un telefilm e io spero che abbiano dato l'ergastolo a chi l'ha prodotto. Bravo, il telefilm era orribile. Da quanto l'hanno fatto bene, davvero. Rispetto ai libri, guardi, il primo libro è fantastico, della Spada della Verità. Il seguito, vabbè, diciamo, non è bello come i primi, però, insomma, per chi magari si appassiona, sì. Troppa cultura in questo momento, in queste presentazioni. Vai avanti, ma le dice. E invece chi è un ricettario, sostanzialmente? Eh, cosa cavolo, lei che fossi. Il tuo libro su fitness. C'è il cucchiaio d'argento? Sì, il cucchiaio d'argento. Addominali in cinque minuti? Il gambero rozzo, dai. Come perderli addominali in cinque minuti? Cioè, tu l'hai fatto al contrario, quel muscoloso, e poi vicino quello muscoloso. Io invece voglio dire una cosa. Io voglio dire una cosa. Ma le dice, io proprio stavo pensando, mentre facevi le presentazioni, che personaggio potrevi essere. E ti farò un complimento, perché io ti vedo tanto come fogarti prima che faccia il giro del mondo in 80 giorni. Ok, quindi un pazzo. Proprio l'uomo che lancia il cuore oltre l'ostacolo e poi via. Via, verso nuove avventure. Beh, mi piace. Si desce proprio il tuo lato American. Il giro del mondo in 80 American. Beh, mi piace, mi piace. Ci può stare, ci può stare. Sono stato buono, stasera Canopus è buono. Ma la nostra enciclobedia di conoscenza è ovviamente il nostro meraviglioso pubblico, che già stasera è stracollegato. Un saluto a tutti. Vediamo un po' Alemanna, Bond, Massimiliano, Ian, Della Croix, Riccardo, Marco, Giorgia, David. Ciao ragazzi per essere arrivati in questa live e aver scritto il vostro primo commento. Speriamo sia uno dei molti di questa sera, perché abbiamo bisogno di voi perché sennò ci addormentiamo. Siamo veramente stanchi stasera e arranchiamo. Ma per fortuna, ma per fortuna, chi ci accompagna in questo arrancare sono le nostre rubriche. E la rubrica prima di Gioco Nauta è quella del Momento Edonismo. Tesoro, ti assicuro che è l'ultimo. Accidenti, non ho più spazio nel Callax. Momento Edonismo Bene, allora scusate, io voglio iniziare subito con un commento, perché Alemanna giustamente dice la domanda che sta tenendo tutto il mondo col fiato sospeso è sarà arrivato o no questo benedetto gioco al doc? Gli SS Vanguard. Doc, è arrivato? Beh, intanto mi è arrivata una lettera. Mi è arrivata una lettera. Ci dispiace, abbiamo perso il tuo gioco. Sì, sì. Caro Baker, ci dispiace tanto, grazie per i tuoi soldi. Insomma, sì, dai, è arrivato. Non saresti qui così a dire... Ah, no. Caro Baker, grazie per i tuoi soldi, come no? Sì, esatto. Sì, è arrivato. Come vi ho detto, ho già tirato fuori il banualetto per leggermi le regole e tranne avanti. Ma partiamo dalle scatole più piccole, che sono quelle degli stretch goal in questa Lost Fleet, dove sono raccolti sostanzialmente le parti che sono state sbloccate durante la campagna. Andando a una scatola un po' più grande, ma per fortuna meno pesante, è quella relativa alle miniature. Eccole qua, me le hanno mandate tutte dentro qui, ma meglio è il retro, diciamo, dove vedete tutto quello che dagli stendini si è trasformato in miniatura. E devo dire però che gli stendini non erano male. quindi anche chi non ha preso l'espansione con le minia. E adesso, scusate perché qua, l'ernia si può sempre sentire, eccolo qua e questo è Vanguard, finalmente. Che scatolone. Che scatolone, ragazzi, per un totale di peso di 12,1 kg, segnava la bolla di consegna e adesso ve lo rigiro da questa parte, dove potrete vedere un po' meglio quello che contiene. In realtà sono veramente uno sbalangaio di carte. C'è il bellissimo registro dove andare a registrare tutto quanto riguardante le attività da fare sull'astronave e sui processi. E poi tutta la parte dei log della nave, veramente, secondo me... E devo dire che la cosa che mi ha lasciato soddisfatto è il fatto che dopo gli ultimi giochi che avevano avuto dei setup mostruosi, mostruosi, l'ultimo dei quali direi che è voidful, perché il povero Riva ha veramente sudato sette camicie ogni volta che ha preparato i setup della partita. Qui devo dire che, tutto sommato, una volta sistemati i materiali nei loro box, il setup di partita in partita non è così impegnativo. Temevo molto peggio. Temevo molto peggio. Quindi, tutto sommato, penso che sarà meno faticoso degli ultimi che ho visto girare. Anche perché, diciamolo, ultimamente, soprattutto sui giochi di un certo calibro, ormai si teme molto il setup. Ultimamente vedo che c'è una tendenza a dire, ma sì, tanto abbiamo tempo, ma facciamola con calma, questa setup la buttiamo via ore per preparare questa cosa. Che dopo giochi... Sicuramente ci sono due strade parallele. Quella di chi del tempo di setup se ne frega, vedi Voiceful, chi invece si sta preoccupando molto al tempo di setup e sta scogitando di tutto. Vedi Gloomhaven, Just the Lion, dove il setup apre due libri o uno, a sicuramente i casi e via. Sì, sì. Ecco, qui direi che avendo già appunto i libri in cui aprite, avete già le location dove andare a piazzare carte e quant'altro, su questo sicuramente ci si guadagna rispetto a piazzare planche e quant'altro. Ma una domanda, Doc, così, che cosa ti aspetti da questo gioco? Cosa aspetti di trovare? Allora, intanto mi aspetto di trovare... Sembra tanto quando il consul era ti chiede, dove ti vedi tra cinque anni? No, non è una domanda proprio interessata. Io tra cinque anni spero di aver finito almeno una delle due campagne che ci sono e per fortuna che non ha preso la terza, perché negli straccioli è stata sbloccata una campagna per cui ce ne sono già due da giocare, in sostanza. No, allora, le aspettative sono tante. Da quello che ho già cominciato a leggere, qualcosa già mi solettica positivamente, direi. No, mi aspetto che intanto l'ambientazione si faccia sentire più potente, punto primo, e ci porti dentro il gioco. E che dopo tutto quello che ci sono inventati, diciamo, possa essere verosimile, un futuro realistico, insomma. No, comunque che abbia una certa attinenza scientifica. Perché non mi ricordo male, è una roba alla Star Trek, no? C'è la ciurma. Sì, andiamo di pianeta in pianeta e quindi abbiamo da esplorare nuovi strani mondi, insomma. Allora, ti farò un'altra domanda molto importante, da questo dipenderanno un sacco di cose, soprattutto la nostra amicizia, con chi vuoi giocare a ISS Vanguard di Giaconautica? Qual è il tuo equipaggio? No, oggi no, devi selezionare quattro, perché giochi in quattro. Ho due campagne, per cui posso escludere tranquillamente a Remberg che tutti gli altri possono giocare. Queste risposte veramente da critico in diplomazia, no? Esatto, fallimento, critico, perché sappiamo benissimo chi ci sarà a Maledice. Anche Canopus. Anche Canopus. Perché se ne sai perché... Alchila, forse? Eh, potrebbe essersi. Perché, attenzione, perché qui c'è anche un dubbio che dovete sciogliere voi, che vorrete salire a bordo della mia nave. Volete fare la... Sì, perché è la mia nave. Volete fare la prima campagna, quindi basica, ma più lunga, eccetera, eccetera, con tutto il set, quindi che ci accompagna bene fino in fondo, oppure, oppure sceglierete la seconda campagna che introduce già nuovi e più strani elementi con cui affrontare. La seconda. La seconda. Hai capito? Ecco perché ti ho detto che puoi scegliere. Effettivamente mi ha ingolosito più con la seconda campagna. Ma è molto più elementi, sì. Vedremo. Vi propongo già un commento, perché già io sono vicino a Riccardo, che vengo a giocare da te a Yes Vanguard, perché, non scherzo, a me non è arrivato e a fronte di chiarimenti da parte mia, mi hanno rimborsato il pledge. No. 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 Questa, no. Cioè, Riccardo, siamo veramente vicino a te, perché è una tragedia. Spero ci sia stato un errore e ti arrivi lo stesso, però vabbè. Ti giuro, Riccardo, che quando ho visto che arrivava a tutti, a me non arrivava, ho avuto lo stesso terrore di quello che è capitato a te, purtroppo. E ti giuro, quando ho visto che mi è arrivato un messaggio dal Corriere, ho tirato veramente un sospiro di sollievo. Però veramente hai tutto il mio sostegno e mi spiace tantissimo, cavoli, perché dopo tutti questi anni aspettare e ti arriva il rimborso, è proprio brutta, è proprio brutta. Ok, va bene, tutto ciò, è più che un momento hedonismo. No, no, sono proprio a posto così, io c'è stato con questo, sono a posto per. Ragazzi, vi ricordo che il momento hedonismo è un momento di condivisione, no? E quindi da casa, non siete parchi, scriveteci i vostri momenti hedonismo, che andremo a leggere in un secondo momento, qui a breve, insomma, e scopriamo un po' che cosa avete nei vostri sacchetti, nelle vostre callax, quindi avanti dalle danze, insomma. Qualcun altro è arrivato qualcosa? No, il cercatore no! No, ve l'ho detto, devo fare posto in casa e fino a che non levo roba non ce ne può entrare altra, letteralmente, davvero. Ma pazzesco, pazzesca questa cosa. Senza parole. Vabbè, è arrivato qualcosa a me, dai. Oh, vediamo cosa c'è arrivato. Beh, beh, allora, niente di paragonabile a quello che è arrivato al Dockham, è arrivato Peaceful Garden, di Mario Studio, Mario Super, Mario Nova, che sono tre Mario che sono messi insieme. Qui ricordo che grazie al codice sconto, gioconauta, tutti i minuti, si ha il 10% di sconto sul loro catalogo online, in occasione dell'uscita di Yucatan, è venuta otto mesi fa ormai. Comunque, vabbè, cosa si tratta? Si tratta di un gioco per due di piazzamento, praticamente piazzati i fiori e lo scopo è quello di far arrivare le farfalline. Ma la cosa che mi ha colpito di più è come impacchettato, perché intanto il cercatore non ha il nylon intorno, ma ha due adesivi a forma di farfalla. Ah, carino. Ma guarda che è veramente incredibile. Adesso stiamo passando, appunto sempre per la questione ambientalista, stiamo passando dal cellophane, a due adesivi che semplicemente tengono sigillata la confezione base. Ecco, sì. La facciara anche di Sky News. La cosa ha anche meno costi, punto uno. Direi che sì. Sebbene ci sia il rischio che si graffi molto più facilmente la scatola durante il trasporto. Eh, quello sì. Quindi o utilizzano del materiale che poi riciclano, diciamo, o se ne fregano e te la becchi così come ti arriva. Esatto, cioè, semplicemente imballano un po' meglio tutto il lotto e ciao. E via. Però è vero che c'è un po' sopravvalutato, dai, alla fin fine. Tu dici perché è la fobia del cellophane. Alla fobia, mi dà un fastidio e il rumore del cellophane che si rompe. Ma, ok, io invece volevo condividere con voi il mio momento hedonismo, di cosa ho giocato questo weekend. Lo faccio perché mi è stato chiesto di parlare di questo gioco, che è Fractal. Voi sapete che è un 4X, un 4X spaziale, ovviamente, dove ci sono varie razze abbastanza classiche, quindi ci sono gli umani, gli alieni, tipo Zerg. L'intelligenza artificiale, molto bello graficamente, molto d'impatto. Ma devo dire che la prima partita mi ha veramente tirato, abbiamo sberato una regola fondamentale. Però, al di là di questo, mi ha spiazzato perché da un 4X, allora, passi voi, che è piuttosto german, questo vuole seguire quell'ombra del germanismo, dei combattimenti senza dadi, dei pochi combattimenti, perché i combattimenti arrivano solamente al fine ciclo, mi ha fatto un po' storcere il naso. Tuttavia, devo riprovarlo perché, insomma, quella regola che ci limitava nelle azioni è stata piuttosto pesante, calcolate che potevamo fare solo 4 movimenti in una partita intera, per me era già bocciato, ma per fortuna abbiamo scoperto che con i soldi riesce a fare più azioni e quindi fare più movimenti. La sua potenza sarà sicuramente nella campagna, perché nella campagna aggiungere tecnologie, eccetera, eccetera. Non è stato un buon inizio, ma spero che migliori nelle varie prove, perché mi aspetto molto da questo gioco, ma una parte di me è anche convinta che giocatori come Canopus e Doc potrebbero adorarlo in maniera incredibile, perché ha delle cose pazzesche che a voi piacciono tantissimo. Voi non siete giocatori aggressivi, no, nei 4X? Penso Doc, tu in un 4X non hai mai attaccato qualcuno. Ma è sempre un po' cattivo, però tu no. Allora, in generale sono quello che prima costruisce e dopo attacca, per cui è facile che il mio attacco arrivi quando mi sento solido, no? E posso entrare e spaccare. Il problema è che a volte quando mi sento solido è finita la partita. No, ma Fractal appunto, diciamo che avvantaggia questo tipo di gioco, cioè è strutturato, almeno da quello che ho potuto vedere, è strutturato molto in questa maniera, che tra l'altro è un modo con cui molti giocatori approcciano il 4X, no? Potenziarsi, consolidare appunto le risorse, le tecnologie, essere sicuri di essere vittoriosi in una battaglia e ti dà molto spazio, soprattutto ci puoi giocare con due versioni, o la mappa è esplorativa, quindi molto grande, quindi fai fatica ad arrivare dagli altri, oppure è stretta se lì ovviamente i combattimenti sono più frequenti. Vedremo, vedremo, vedremo se riuscirà a uscire a questa cupola di... Ma le dice, perché c'è questa corsa al 4X German, prima Boyful, adesso Fractal? Perché gli euro stanno infestando il mercato, cioè è inutile dirlo, cioè sarà che quando andiamo a essere, ovviamente siamo in patria europea, ma anche tanti American, se vedete, stanno un po' curvando sulla sicurezza di alcune meccaniche, cioè... Ma c'è una questione di numeri, il German o l'euro va di più, quindi aspetta che prova a fare il German o più euro. Sì, ma anche questione di bilanciamento, cioè ci sono un sacco di fattori effettivamente a riguardo. Beh, questo è materiale per una prossima live. Ok, perché il 4X si sta trasformando in German, tipo... Sì, per proposi, comunque ce ne sarebbe da dire, eh. Arrivano anche i Dungeon Crown German, attenzione. Io ce n'ho uno. Eh, vedi. Ne saranno per uscire tanti altri, ne ho visti. Ho visto qualcosa di brutto, ma ho visto anche qualcosa di interessante, sarò sincero. Ma passiamo ai commenti, senza terli... Certo, assolutamente, siamo qua a posto, ragazzi. Eh, anche perché c'è, Erzuclei si è collegato da 1453 per lasciarcelo. Eh, miseria. Grazie. Anche perché stasera gioca in associazione, buon per te, assolutamente, e ci lascia il suo idonismo, gli è arrivato Hit, Pioggia, Battente e soprattutto i biglietti della Modena Play. Ragazzi, ci vediamo lì, noi ci saremo, sicuramente. Non sappiamo esattamente i giorni, quanto, come e dove, ma ci siamo sicuro. Eh, rimanete sintonizzati perché potrebbe esserci anche qualche bella sorpresa per tutti. Eh sì, la settimana prossima potremo avere notifiche, forse. Forse. Crociamo le dita. Eh, beh, certo. Poi, oh, beh, Giuseppe, che ringrazia Maledice, che l'ha contattato su Facebook e non ha esitato a dargli consigliere. È vero, Giuseppe mi ha chiesto, mi ha chiesto un dungeon crawler e ha detto, bravo Giuseppe, benvenuto nel club. Gli ho consigliato Sword and Sorcery perché me l'ha chiesto in italiano, me l'ha chiesto in italiano. Soprattutto, dungeon crawler dovete giocarlo, se volete veramente conoscere il dungeon crawler dovete farlo in inglese perché ci sono tantissimi titoli che non arrivano in italiano. Sword and Sorcery, secondo me, è uno dei giochi in italiano, dungeon crawler puro, che vale sicuramente la pena, è bello profondo, è tosto, divertente, con una bella sfida, tra l'altro. Assolutamente. Sempre Giuseppe, il suo momento dell'ismo che sta settimana Spirit Island e Curbiz. Beh, comunque, va di là del dungeon crawler, con Spirit Island ce n'ha da divertirsi, tantissimo Braujap. È un ottimo acquisto. Federico, ragazzi, vorrei una curiosità, che difficoltà si trova a localizzare un gioco? È più di un anno che aspetto a localizzazione di Undaunted Reforcements ed ancora niente. Buona serata a tutti voi. Federico, non è una questione di difficoltà, è una questione... economica e di organizzazione, cioè o ci sono economicamente poco convenienti o ci sono contratti per cui deve uscire in una certa data. Esatto. Una dei due, insomma. Già, capire esatto, veramente gli accordi che si sono presi con la casa che ha rilasciato appunto la possibilità di localizzarlo. Quindi ci sono paletti da rispettare, restrizioni, anche nella traduzione stessa del testo, delle parole e anche dell'editing delle immagini, perché a volte bisogna cambiare anche quello che ci sta dietro per magari sistemare il testo, no? Per cui... Assolutamente, però sì, non è una questione tecnica, probabilmente in realtà è la minore. Poi sempre Giuseppe ci chiede un consiglio. Cosa ne pensate del GDT di Fallout più espansione? Vorrebbe prenderlo usato. Ma le dice. Ancora io, effettivamente. Anche il Doc, perché anche lui l'ha giocato Fallout, il Doc lo definisce un gioco da grigliata, ma diciamo che con tanti americani che provo quel gioco lui dice così. Doc dice spesso così, no? Perché sono lunghi. No, quelli lunghi, dove sì, ti muovi, fai cose, ma non c'è fretta, hai capito? Intanto metti su qualcosa sulla griglia. Non è male. Io direi che possiamo sfruttare il commento di qualcun altro che dice Giuseppe, se lo trovi con anche legami atomici è un bel gioco, senza legami atomici per un pochino e puoi trovarti a metà partita ad avanzare con una fazione e poi dover cambiare. Perché far fatica a noi quando si rispondono dal pubblico? Sfruttiamo, no? Esatto, comunque è un bel gioco, è anche secondo me abbastanza ben ambientato perché le carte sono molto legate alla lore del mondo di Fallout che tra l'altro è bellissimo, ragazzi esce anche la serie tv quest'anno, quindi forse è l'anno del ritorno di Fallout che è dal 4 che c'è un po' abbastanza. Lì penso che veramente faccia anche la differenza se e quanto conosci bene l'ambientazione per goderti un po' il gioco, perché non lo so, senza averlo giocato. Tu come l'avresti vissuto Fallout? Io Fallout lo conosco da quando ero ragazzino, quindi è difficile per me straniarmi da un mondo senza Fallout. Cioè solo l'idea di quello che è successo nei Vault mi manda via di testa, questi che erano posti per salvare l'umanità ma al contempo erano degli esperimenti sull'umanità. E degli esperimenti pazzeschi, io sono andato a vedermi un video dove spiegavano tutti i Vault che sono tantissimi e ce ne sono alcuni che sono terribili, ma terribili. Tipo Vault con solo uomini, Vault con solo donne, Vault dedicati al massacro, a vedere chi si ammazza a Vicenza. Sono incredibili e tutto intorno, nonostante solo i Vault c'è una lore, i mostri, le varie gilde, società che si creano, è veramente incredibile. E il gioco da tavola in questo secondo me richiama tanto il videogioco perché le carte narrative fanno riferimenti a situazioni che hai vissuto sia anche del primo ma anche del tre e del quattro. Poi, ciò ho preso che il momento aspetta, quindi dobbiamo correre, assolutamente. Massimiliano Buro, questa settimana ho acquistato Trio, Yamatai, l'espansione The Revenge of Fauxila, The Loop Imaginarium. Bravo, bravo, The Loop. Imaginarium è tanta roba, eh? Ma anche The Loop è tanta roba. Ma The Loop, in che lingua? Perché è tosto trovarla in inglese. Il gioco ce l'ha in francese e noi non ci abbiamo mai giocato. Ecco, quindi sto aspettando una... È Le Loop, non è The Loop. Anche i francesi ci odiano, bene, ma non niente di male. Vabbè, certo. È da pezzo anche, eh. Barbara. Barbara ci chiede, ma che gioco è quello alle spalle di un cercatore? A prima vista sembra un sedere condisegnati in alto due occhi. Sai che... No, è una faccia di maiale. Sì, ma sai che come l'ha detto, anche io ho visto quello che ha visto lei, ho detto no, non è più un maiale per me. Cos'è comunque il cercatore? Farm Club è un gioco che c'è anche su Borghem Arena e è anche molto bellino. Semplice, ma molto bellino. È un gioco non ufficiale della fattoria degli animali. Ho fatto un po' una selezione a tema libri, no? Quello non ufficiale della fattoria degli animali. Questo invece è di Pretty Woman. Scusa? Troyes e Pretty Woman? Eh sì, non faceva mica la sua ora, lei, nel film. Sì, vabbè, ho capito. Vabbè, dai, cercatore. Non so neanche se c'è un libro, tra l'altro. Se è Pretty Woman, comunque è ok. Vabbè, passiamo avanti, eh. Tra Maiali e Troyes andiamo avanti. Scusate, si accendono un po' con i tempi, ma non voglio più dare la parola a cercatore. Mai più. Quindi, per il momento donismo, Europe in Turmoil 1 e 2 della Compass Games. Mamma mia. Giochi, stiletto, ex-stragola, ambientato in Europa nel periodo rispettivamente 1900-1915, 1920-1939. Io l'ho sentito parlare molto bene e devo dire che mi incuriosisce come serie. Mai provato. Daniele e Dex, mi hanno regalato Lewis and Clark. Non avevo mai avuto un piacere, bella scoperta, sì, molto carino. Bellissimo. Ormai è un grande classico, ormai è un grande classico. Davide Vakhex, che è carbonara, quindi sono obbligato a leggerlo per contratto. Questi ultimi dieci giorni ho comprato il delirio. Star Wars Rebellion, Planet Unknown. Planet Unknown lo voglio anch'io, cavolo. SOB City of the Ascent. Non so che sia SO... Ah, Shadow Brimstone. No, giusto. Bravo, bravo. Bagrand Song e Da Wiga Heroes of Might and Magic. Might and Magic. Hai fatto il pledge perché tu penso che tu abbia già la scatola, perché sono a casa tua domani. Però, ragazzi, tanta bella roba, eh. Eh sì, è uno sbellone. Veramente. Sì, ma proprio belli. Cioè, non è... Cioè, non saprete dove iniziare con dei titoli del genere. Sì, veramente. Ottimi acquisti. Davide, cioè, tanto di cappello. Sant'Oraso è arrivato Rebird, immagino che si riferisca a... Black Rose. Black Rose World. Ogni settimana qualcuno arriva su Black Rose Rebird, veramente. Senti, secondo me sono i membri della Ludus Magno, ognuno con unico diverso. Un'esperienza è insensato, così sempre. Secondo me, ci può stare. Salutiamo la Ludus, che anche loro... Assolutamente. Ora ci hanno anche loro. Anche loro sono i francesi. Marco. Io ho ceduto e ho acquistato John Company, secondo edizione. Riuscirò mai a giocarlo? Ma... Secondo me è mai. Secondo me... Bisogna avere buona volontà, ma... Sì. Eh sì. Beh, e ti organizzi. Siamo riusciti noi a giocare Western Empires. Abbiamo fatto 13 ore di partita. Ci possono uscire chiunque. A giocare qualsiasi cosa. Leon Orso Gufo. Thunder Road Vendetta. E Wigato. Tokyo Highway più espansione. È vero che c'è Tokyo Highway su Wiga. E io ho la vecchia edizione, mannaggia. Ma... Ma sai che i primi a parlare in Italia di Tokyo Highway sei stato tu, Canopus e Doc? I primi a parlare di... Siete stati i percussori di Tokyo Highway. Poi è passato all'Asmo Dead, è arrivato... E poi dopo sei tutti... Ah, Tokyo Highway. Tra l'altro, la caratteristica è che quello che ho io, che è proprio la prima edizione, non ci sta dentro la scatola. È vero. O di cui tu... Di cielo fani la scatola, si apre. Praticamente si alza subito perché dentro non c'è il componente. È un'elusione. Un classico. Asmo Dead ha fatto una scatola come si deve con tutto dentro, cioè. Giustamente. Il gioco giapponese, ovviamente. Santa Rosa. Seven Citadel. Agenonia. E Dungeon Universalis. Forse Agenonia. Agenonia, sì. Agenonia, sì. Agenonia, sì. Ma perché gli inglesi le chiamano Agenonia con questo... Cioè, quindi ci sta che uno lo schiva così per pronunciarlo giusto. Scusate. Davide Vacca. Ha riscritto il nuovo Carbonara, quindi sapete che per contratto devo leggerlo. Ok. E ci ricorda... Si era dimenticato di dirci che dopo aver fatto il... Gli arrivato il Wiga, ha anche pleggiato Dante Inferno e Pure Inferno. Pure Inferno. Così, per sicurezza. Così, non si sa mai. Non si sa mai. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ma dove inizio? Sì, sicuramente su Inferno. Premiamoli questi bottoni. Addirittura. Francesco. Io questa settimana sono riuscito ad recuperare Expedition Northwest Passage. E tra l'altro, non vorrei dire, ma secondo me lo stanno rieditando, sai. E ho dovuto prenderlo nel lontano Lussemburgo. Speriamo valga la pena. E lo ricordo... L'abbiamo giocato io a Tecna, non posso vero ancora allo spillo di tanti anni fa. Non so se eravamo allo spillo o se addirittura esisteva ancora l'Asterion, che poi è diventata Smoda Italia. Abbiamo giocato all'Asterion Days. No, io sono sicuro che eravamo allo spillo. Sì, sì, però sono sicuro. Sì, 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 sì. Può essere, può essere. Poi Marco domani arriva a Fractal da Wiga. Ho parlato abbondantemente. Darty Webber. Per il momento idonismo. Ho acquistato l'espansione di Shadow of Brimstone, Vali of the Serpent Kings e The Hunger High Stakes. Shadow of Brimstone sta andando, eh. Ragazzi, Shadow of Brimstone sta tenendo il peso dell'età, perché ragazzi, ha un bel po' di anni, eh, Shadow of Brimstone. Ed è uno di quei dungeon crawler che non sparisce. C'è, continua a espandersi, continua ad avere la sua vita. E i suoi fan. E ha subito anche un restyling di recente, quindi si è anche un po' svecchiato, eh. Soprattutto come materiali, vi dicono. E effettivamente prima era un po' difficile da montare. Luca, buonasera. Ultimi arrivi by Tesla, Shipyard e Exodus. Poi ricoperato Arborea e poi ISS Vanguard anche lui. Sì, mettiamolo pure lì in fondo. In fondo, uffine. Me l'hanno messo lì giusto per tenermi aperta la porta mentre mi portavano dentro il resto. Assolutamente. Poi Stefano, anche lui. Fractal, Dark Moon, con espressione emblem. Ok. Ok. E adesso domanda, ci dice Luca. Domanda. Heroes of Might and Magic. Zon e Sancorè. Quale non guigare e perché? Secondo me Zon. A me Zon non mi aveva preso. Vero che avevamo visto... Io San Corè non so qual è. Ciarloby. Sì, Zon è quello di Ciarloby. Sì, Zon è quello di Ciarloby. E non mi aveva detto nulla neanche a me. L'abbiamo visto insieme. A uno film. Zon è. San Corè a me fa pensare il Santo Morè in dolce. Eccolo lì. Lo sapevo. No, San Corè penso è sempre nella scia dell'ambientazione di Merv. Non so se sia sempre dello stesso autore italiano. Sì, sì, è sempre di Lopiano. È sempre di Lopiano, vero? Ecco, e quindi ha mantenuto l'ambientazione. Però anch'io sono curioso perché secondo me Merv l'ha fatto bene. Però questo sinceramente non mi sono ancora informato. Guardate, propongo di liquidare la cosa così. Wiga, Heroes of Might and Magic. Vai su sicuro. Esatto, anzi, addirittura ci scrive Wiga in diretta per te Luca. Dovresti vigarli tutti. Salve, boss. Salve, scusiamo per non aver consigliato tutti i doppi. È un commento sicuramente disinteressato. Chiediamo un belmente scusa. Io comunque eviterei San Corè perché è troppo lungo. Cioè, Wiga che ci guarda, cercatore, per favore. Eh, cioè, non so. Eh, vabbè, glielo dico. Guarda che mi sta... Cioè, il collare dal lavoro ce l'ho io, eh. Allora, quando vedrai la testa saltare di canopo si schizzerà sangue ovunque. però sarebbe divertente. Assolutamente, come il film e la fortezza. Va bene, salto qualche commento. Scusate, ma siete veramente tantissimi. Ah, Marco. Mi sono arrivati Exodus, Shipyard di Sushi. Avevo scritto Sushi per questo l'ho letto. Poi era il cercatore direttamente nella mia collezione Free Market. Cioè, nel senso che... non glielo ho spedito io, eh. Non glielo ho spedito io. Quello lì è un gran gioco. Il gioco non ufficiale dei Peaky Blinders, quello lì. Ah, ok, ho capito qual è. Ok, sì, sì. Quello con i componenti osceni, ma è uno dei giochi più divertenti che ho in collezione. È un gioco bastardo. È un gioco bastardo. È un gioco. È un gioco. È un gioco un po' bastardo, no? Con i pivassi. Un po' di più. È fighissimo, fighissimo. Aste libere, tipo di quelli dei container. C'è una specie di castiglio per metterci dentro le monete e le risorse, tipo quello di... di il grande. Mm-hmm. Fai le retate con i furgoncini e gli sgherri sopra per buttare giù i negozi degli altri. È fighissimo. È fighissimo come concetto, effettivamente. Sì. Allora, poi. Eh, Davide ci dà una news che è stata trocciata l'ufficializzata all'uscita in italiano di Dune World of Arachis. Ragazzi, è un gioccone. È un gioccone. Ho visto anche il film e pure quello è un filmone, quindi Dune è wow, è l'anno di Dune. Ma adesso in cerimone ci chiede parere su due Kickstarter di nuova uscita, Daylight e Galactic Cruise. Ma le dice? Sono... Ma sai che ti dirò che Galactic Cruise mi ispira parecchio perché è un tema molto originale. Questa cosa che devi organizzare le crociere nello spazio è molto affascinante. e tra l'altro ha dei materiali molto, molto, molto forti. Cioè, sono veramente studiati molto bene. Quindi, cioè, mi attira anche a me parecchio. Nonostante sia non è proprio il mio genere, però spazio. Ma infatti il mio genere lo c'è. È più il tuo genere. Sì, sì, sì. No, poi comunque volevo rassicurare tutti. Io quando l'ho visto mi sembrava quasi un gioco di lacerda perché comunque l'autore, il disegnatore è lo stesso e hanno tutto. Bene o male il tratto è quello però tranquilli non è suo. Quindi lo potete prendere. Avete la mia benedizione. Vabbè, ok, passiamo oltre come questa. Il cercatore appunto praticamente. Il cercatore no, però l'interessante è un'interessante anche a me, onestamente. Poi, Massimiliano Burro ci dice che ha preso l'espansione e The Loop ce l'aveva già. In francese anche lui. Grande, grande Max, come me. Tutti in francese ce l'abbiamo in questa edizione. A Drugo sono arrivati Gates of Valhalla e Value of the Serpent Kings di Sempre Shadow of Brinkston. Eh sì. Oh, bravo Drugo. Sono tutti qui quelli i collezioni Shadow of Brinkston o no? ovviamente. Ok. È stato un altro po' di commenti veramente siete tantissimi ragazzi. Antonello è alla ricerca di Primal The Walking ma a parte prezzi improponibili ancora niente ma è già uscito? Non è uscito quindi ci stai prenotando un gioco che ancora non è arrivato abbi pazienza fa l'uscita vedrai che magari si stabilizza non subito appena arriva perché appena arriva potrebbe anche salire i prezzi Eh infatti Poi Ah Massimiliano Paladin non solo pledge di giochi in scatola io questa settimana ho pregiato la Wave 3 dei Duncan Rhodes cosa sono non ho idea Massimo chiediamo scusa ma stilici cosa sono perché adesso sono veramente curioso adesso cerco io vogliamo pregiarlo anche noi cioè capisci è un gruppo forse forse è un tipo l'album numero 3 fermi pullet pork aggiunto espansione di quinto giocatore al pledge di Primal e poi Giacomo io che sto sentendo ho recuperato le ultime due espansioni che mi mancavano di Dark Light Memento Mori eccolo lì un altro gando dungeon crawler questo qui ragazzi è veramente un bello old school se ne ho parlato poco ma wow e delle belle miniature veramente molto caratterizzate leggo questo Duncan Rhodes un gioco che si chiama Memento è bello di sicuro Duncan Rhodes Painting Academy ragazzi questo è Duncan Rhodes ok Painting Academy è un'accademia di pittura ok sono tipo robe per stampe 3D forse quindi la Wave 3 potrebbe essere ecco qua colori per dipinge miniature è fatta ma è una figata pazzesca Massimo cioè io sono un po' vecchio sono cittadale qualcosa di di Valeio ma questa è mia nuova proprio poi va bene leggo gli ultimi dai lei sta ma ciao a tutti oggi mi è arrivato Arc Nova non vedo riprovarlo benvenuto nel club potrai avrai un nuovo amore vedrai vedrai poi anche Giacomino dice pure agemonia all in agemonia all in agemonia io non ce l'ho ah agemonia ce l'ho lì guarda se vuoi te lo faccio vedere si chiama no no vedi credo sulla parola e poi Corsus anticipo il prossimo Guiga il futuro momento hedonismo ed un instante Mage Knight di Apocalypse Dragon speriamo Mage Knight di cosa stiamo parlando esatto ma c'è già su Viga posso comprarlo subito? non lo so scopriamolo insieme scopriamolo insieme ma sono curioso perché su Viga è un negozio dove vai e compri subito no? no non funziona così perché Viga seppure è un e-commerce non è un negozio nel senso tradizionale del termine nel senso che se tu maledici e vuoi cavolo come faccio adesso con questa cosa va bene aspetta che riprendo il Mage Knight di Apocalypse Dragon non so quanti autori che di nome Mario avrà sto coso e non è che puoi semplicemente aggiungerlo al tuo cestino fare paga e portatelo a casa ma bensì o c'è il gruppo acquisto non solidale già aperto su Viga e se questo non ha raggiunto il numero massimo di partecipanti tu ci partecipi e se raggiunge il numero minimo di partecipanti ok ti arriva a casa Mage Knight di Apocalypse Dragon altrimenti devi andare nei social di Viga in particolare Facebook in particolare grazie al link presente e descrittivo a questo video scrive un po' se in cui dici caro Mario Viga perché vi ricordo che il cielo di Viga si chiama Mario Viga vorrei tanto Mage Knight di Apocalypse Dragon ti prego sono stato un bravo bambino anche quest'anno non ho offeso troppo Canopus e se questo link se questo posto scusate riceverà 20 cuoricinamenti Mario Viga chiamerà Mario Mage Mario Knight Mario Day Mario Apocalypse Mario Dragon ti ho detto che è un sacco di Mario e se tutta questa gente trova la quadra era aperto il gruppo acquisto non solidale bravo ormai mi piace grazie lo faccio da solo cosa? due anni e mezzo? sono due anni e mezzo ormai non fai più una piega veramente che cosa c'è su Viga in questo momento? beh prima abbiamo parlato di questo Last Light andiamo a vedere che cos'è andiamo a vedere ok scatola molto intrigante devo dire della Grey Fox artwork molto intriganti guarda che se mi fate fare questo Viga vi odio i pianeti sono dei ciupa ciupa i pianeti sono bellissimi tra l'altro a parte che se lo compri io te lo mangio ma sembra tanto American Psychedelic secondo me un 4x da ritmo il canzante con pianeti 3D e un tabellone rotante wow ma il bagno questo lo aveva pleggiato il buon come pigro eh credo di sì è vero se lo pleggia tutti non tutti però insomma molto intrigante in realtà molto intrigante poi che cosa abbiamo beh Tokyo Highway vogliamo rivederlo la sua bellezza della sua città folli ma c'è l'arcobaleno è fichissimo l'arcobaleno ma come funziona infatti su qui che lo sto guardando sbavando ma ascoltà prendi questo c'è già il base va bene che il base è una scatoletta grande ma ce l'hai l'aeroporto ma ce l'hai lo stadio è uno schifo il base prendi guarda è vero uno schifo il base non c'è non c'è solo le espansioni eh c'è st'occhio bundle beh prendi il bundle e vendi il gioco base eh beh sì assolutamente assolutamente no credo che le espansioni siano all'interno quindi è difficile che si possano smizzare poi cosa abbiamo il war questo è nuovo se non ricordo male su chi sta no è da un po' che c'è ne avevo anche parlato in realtà mi ispira un sacco però è anche a me con gli aeroplanini il righello le manovre il goniometro eh però hanno il loro fascino guarda che quando si 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 è tornato quello della chip theory il 20 strong solar system che è quello in solitario se non ricordo male si si con la grafica molto molto accattivante e anche la grafica è tanto particolare questa eh c'è zona poi ma le dice che effettivamente zona che abbiamo abbiamo denigrato in maniera diciamo che appunto siamo vicini a zona cerno dove sono stati trovati questi residivi di radiazione hanno creato chissà che mondo e quindi vai a vivere questa avventura un po' post apocalittica se vogliamo anche se non è proprio eh non lo so non lo so non mi aveva convinto allo spiel però effettivamente bisognerebbe giocare una partita intera se non altro per dargli un giudizio sì è vero e poi boh mi sembra che c'è ah c'è photo tour che è effettivamente nuovo questa è una bella grafica questo è intrigante cioè poi i doc che hanno appassionato di passeggiate è roba tua sì ne ho fatte troppo ormai di passeggiate con questi giochi questo è un po' lunghina tra l'altro sì è il giro del mondo praticamente sì no allora sì il gioco può essere interessante sul genere però effettivamente è come se quando cominci a accumulare tutti questi giochi di piazzamento dadi lavoratori a un certo punto ne mancavano giustamente sì dopo un po' cominci a ricadere nelle stesse qui c'è però parlando di dadi qui c'è l'utilizzo dei dadi che effettivamente forse lo fa distinguere un po' da altri suoi predecessori da capire un attimo meglio leggendo il regolamento eh ma poi c'è anche l'equipaggiamento della fotografia quanto è potente la tua macchina fotografica temo se è un set collection però eh siamo molto pensiamo anche a parks ricadiamo sempre un po' in quel genere lì di gioco questi qua che parlano molto di trace di fotografia c'è anche tra l'altro giusto per rimanere in tema però i giochi di viaggio sono sempre così cioè lo scopo è sempre quello di girare i posti possibili secondo una certa logica e si finisce sempre nel set collection hai fatto in modo un po' particolare rispetto ad altri però quello è non c'è nulla di male tra il brazer mi era piaciuto devo dire mi sono divertito a giocare tra i brazer era molto carino come genere molto anche particolare per il suo stile perché va bene passeggiare ma devi anche riposarti in questo gioco quindi non puoi spingere troppo i tuoi i tuoi uomini ed è un bel motore di punti poi cosa abbiamo vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' cabuto sumo ah ragazzi ho preso il quinto modulo di uno di questi 18 sono io ho preso questo ah non vedo l'ora non vedo l'ora economy eh sì ci mancava giusto all'economia mancava anche forza maletta mamma mia è diventato un gioco infinito veramente però hai pronti ragazzi ok 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 poi vabbè direi che ah no vi dico che cosa sta per uscire nei prossimi giorni cosa sta per uscire battle con devastation of indians and trade grandissimo battle con beh battle con e the presence ah ok ok beh l'ultimo è non male the presence ok non male battle con devastation of indians se ve lo siete perso negli anni passati e vi piace il genere è fighissimo uno dei migliori è proprio figo e conviene prenderci dentro quello sì ok poi vabbè terminiamo con l'ultima parte che abbiamo che è mario stefano edizioni che per gli amici ms edizioni con il codice scontro gioco in alto con il g maiuscolo a 15 potrebbe avere il 15 per cento di sconto sul tutto lo catalogo online pieno di giochi di ruolo tradotti in italiano vi ricordo nuovamente che questi codici scontro non valgono come sconti per pagare le tasse comprare le batterie in tabaccheria o il carburante no valgono solo per gli store online di riferimento ricordiamo che gioco in alto a 15 non è neanche l'anniversario di gioco in alto non sono i 15 anni di gioco in alto non manca tantissimo ragazzi siamo così vecchi vecchi lo siamo ma non così tanto per ora 2-3 anni ci arriviamo eh sì e riprendo al volo qualche commento anche per gli ultimi arrivati che Marco per esempio recuperato queste settimane Stone Age e decimo anniversario Five Tribes Momiji Deluxe e Darkest Night Five Tribes sul German mi sembra Darkest Night non ce l'ho ben presente Alessandro che ha troppa voglia di inviare Explore e Solvenovoria che fallo fallo anche io sto pensando ma sono lì lì sta attento dove ti potrei rubare l'ultima copia e poi il maestro di Cilimon ci dice a proposito del tema della serata che Zona è ispirato Picnic sul Cilio della Strada che è ispirato Stalker di videogioco che è ispirato Stalker della AR che è la fiera dell'est mio padre è il mercato mio padre effettivamente sì è un giro un po' strano Stalker della Wicked Reams che viene a un videogioco che viene a un libro che a sua volta ha ispirato un altro gioco eccetera eccetera molto fiera dell'est poi Davide ci dice che grazie a noi appena ha preso Tokyo Highway grande Davide non eri stato leggero comunque questa settimana però è carino esteticamente è molto bello c'è porca miseria sì è un gioco di abilità comunque però è molto bello d'accordo a me io l'ho portato a casa a Rossville perché mi era piaciuto bene signore bene abbiamo finito abbiamo finito ci sono andato a letto no assolutamente no perché è il momento di trattare il tema della serata che credetemi è un tema vastissimo è una cosa veramente no quando l'abbiamo buttato lì ho detto Massi quanti giochi potranno mai essere presi dai libri perché dai fumetti è facile è bra cioè con la Marvel è un disastro ma con i libri è venuto fuori l'apocalisse cioè non sapevo ci fossero così tanti libri nel mondo ci sono più libri che giochi da tavolo ragazzi incredibile che strano che strano infatti noi abbiamo detto ci aggiungiamo anche i fumetti per avere un po' più di carne non serviva non serviva assolutamente assolutamente era inutile era inutile però funziona un po' così ci pensate l'ho scritto anche nell'introduzione a questa live cioè un libro funziona c'è una IP sopra questo libro una proprietà intellettuale e giustamente cosa si va dal libro si passa spesso di solito si passa più di cinema o di tv si fa la serie quello che è ma molte volte si salta questo passaggio e si va direttamente al gioco se ci pensate capita abbastanza spesso addirittura è capitato col trono di spade che si saltasse il gioco è uscito molto prima della serie televisiva ma proprio subito ma d'altroni ci sono libri e soprattutto i fantasy che si prestano benissimo ad essere ambientazioni per i giochi da tavolo che è una cosa normalissima o addirittura ma adesso ho detto i fantasy però in realtà non solo quelli anche quelli di fantascienza anche i gialli effettivamente le ambientazioni di libri però le ambientazioni di giochi esperti e libri si ispirano ai libri più disparati l'altro giorno il doc mi dice l'Ord of Ice Garden è ispirato a un libro io non avevo idea credibile e chissà quanti giochi ho in libreria ispirati ai libri e non ne ho minimamente idea perché ce ne sono talmente tanti ho detto ma le dice sono più libri che giochi da tavolo tra l'altro quei fumetti è semplice se ci pensi perché i fumetti sono una cosa lunga è un arco un artivo molto lungo tu prendi un po' di là la grafica è già fatta anche se poi la rifanno a volte esatto perché è già fatta prendi e via Marvel effettivamente come giochi non riesco neanche a contarli da quanti sono e me ne perdo perché poi si sfora nel gioco di ruolo sfora nelle miniature qualcosa decisamente decisamente utero vale comunque sempre la logica dei giochi ispirati ad altri prodotti quando il gioco è buono è ispira bene si prende bene dal libro a piene mani un alfomento a piene mani quando il gioco è invece semplicemente col nome attaccato sopra poi magari non c'entra nulla addirittura banalotto e lo fanno ovviamente per semplice lega di marketing e qui insomma comunque direi che partire con la prima domanda vorrei sapere un po' il vostro parere ovviamente su giochi ispirati ai libri se anche voi avete avuto la mia impressione che siamo veramente talmente così tanti e poi faccio una sfida vi lancio questo piccolo input vorrei sapere quale gioco da tavolo vorreste vedere ispirato a un libro che per ora non avete trovato non c'è non esiste oppure esiste ma non è uscito proprio molto bene mi ricordo che ci sono anche quelli che magari sono ispirati al libro ma non usano il titolo perché non vogliono pagare i diritti io per esempio volevo dire la fabbrica di cioccolato di Dahl poi mi sono ricordato me l'ha ricordato il doc che c'è anche ciò con il factory che non ha lo stesso nome ma quello è ma le dice ce la inizia tu visto che sei lì siamo in tre qui lì perché non c'è un fattore di scelta in questa cosa perché mi piace vederti soffrire vabbè ok quindi la domanda se ho capito bene quale gioco vorrei che venisse creato ispirato a un libro sì dai questa qui è la prima domanda tra l'altro mi prometto anche di dire una cosa perché tu secondo me è il miglior gioco ispirato a un fumetto che esista quello di El Boy esatto beh sì è pazzesco El Boy ma l'abbiamo detto l'ho detto così tante volte che ormai ho quasi paura di ripetermi quindi ragazzi se vi piace El Boy se vi piacciono i fumetti se vi piacciono i dungeon crawler dovete prenderlo perché è veramente stradivertente ma detto questo vado a rispondere alla tua domanda la prima parte beh ragazzi un gioco mi piacerebbe tantissimo non so se esista questo posso dirne due vero? sì ok il primo è la storia infinita mi piacerebbe tantissimo un fantasy ispirato un gioco alla tavola dove poi c'è la miniatura del fortuna ovviamente ci devono essere le miniature quanto mi dura la partita? tantissima infinita no ma poi cioè voi avete presente non so se avete letto il libro io ho uno dei pochi libri che ho letto è un libro che ho adorato tantissimo da ragazzino perché avevo visto il film e ho detto voglio leggere il libro è wow ancora più figo perché c'è tutta la parte in cui lui vive a fantasia che viene presa dal film che siamo abituati a vedere c'è delle storie incredibili legate comunque anche alla psicologia ma Ed Era proprio me lo vedo davanti un gioco da tavolo con le quest le missioni cioè potrebbe avvenire una cosa fichissima se è parte un keystarter penso che proprio non mi tratterò e l'altro che invece l'altro gioco che vorrei so che c'è un gioco vecchissimo che vorrei tanto recuperare ma faccio fatica a trovare che è Starship Troopers ragazzi cioè se fanno un gioco a tavolo di Starship Troopers mamma mia mamma mia è tanta roba è tanta roba però deve essere fatto da Dio per te cioè il fatto che un gioco possa essere ispirato a un libro che ti è piaciuto è una leva che ti può spingere ad avvicinarti a quel gioco oppure beh assolutamente no no assolutamente cioè come per i film come per i videogiochi una cosa che ti piace che ti ha già conquistato non vedo perché dovresti tirarti indietro nell'acquisto anzi sei invogliato perché dici vuoi di vivere quelle belle sensazioni che hai vissuto nel libro poi il libro che ti tras... cioè proprio ti porta dentro più di tutti i medi secondo me il libro se c'è fatto bene se è scritto bene tu cioè vivi in un altro mondo è una cosa pazzesca quindi ma è per questo anche che giochi da tavolo vengono diciamo riescono a essere così fighi quando sono legati ai libri perché comunque anche lì entri in un mondo con le sue meccaniche con le sue regole ci sta assolutamente ti dà anche la lore già pronta in teoria quindi c'è esatto più semplice via teorica ma aggiunge anche qualcosina tante volte i giochi ispirati di brand aggiungono hanno una loro personalità che scrivono due o tre robette in più sulle carte oppure citano dei momenti particolari basta pensare a Lovecraft con tutto il ciclo che è stato creato dei giochi da tavola è immenso cioè qui sono tra l'altro un argomento interessantissimo perché quando poi scadono i diritti addio cioè addio Lovecraft è entrato ovunque cioè basta Lovecraft dappertutto Lovecraft è il signore degli annelli ed une penso siano i tre più usati però volevo dire un'unitissima cosa la cosa quando poi fa il passo superiore cioè Lovecraft ha fatto in modo che nascesse la saga di Arkham Horror e poi Arkham Horror è diventato un libro queste cose è bellissima questa cosa a me la piace se poi è fatta bene Arkham Horror è una bellissima loro cercatore tu tra l'altro sei del settore insomma hai iniziato addirittura a fare video sui libri se non ricordo male sì ne ho fatti tre o quattro ma non mi riusciva a parlarne nonostante io sia giocatore perché prima leggevo perché io ho cominciato a giocare perché il primo gioco che ho preso era quello del trono di spade per l'appunto perché avevo letto la saga e quindi da lì in avanti mi sono appassionato quindi ho fatto il percorso inverso rispetto alla serata poi vi ho detto prima che anche il mio Nick esce da un libro quindi io mi sento a casa oggi e io credo che comunque ci sono tanti giochi che hanno un'ambientazione così bella che è un peccato che non ci scrivano i libri quindi spesso e volentieri sono anche giochi che passano dai Kickstarter e non ci vorrebbe niente a far scrivere un libro a qualcuno per portare avanti il discorso però ci sono anche tantissimi libri che non vengono presi in considerazione quindi per esempio oltre a Lovecraft che comunque siccome io sono del settore faccio un po' una cosa di tecnicismo se un autore muore da 70 anni i diritti sono liberi e quindi oltre a Lovecraft ci sono tantissimi libri che hanno i diritti utilizzabili gratuitamente per esempio Dracula Frankenstein e compagnia cantante i Promessi Sposi per esempio mi meraviglio che non ci abbiamo mai fatto un gioco sopra almeno da autori italiani però ecco secondo me ci sono anche tantissimi libri magari minori che hanno delle storie meravigliose che un autore in cerca di un'ispirazione potrebbe tranquillamente utilizzare per appunto avere l'ispirazione per il suo gioco e proprio perché sono degli autori minori che non arriveranno mai a farsi i film o roba simile con una scena di pesce i diritti si prendono stasera vedremo dei giochi che sono comunque ispirati a dei libri che mai sono neanche stati tradotti in italiano come per esempio nella chat ci veniva chiesto di The Lords of the Ice Garden è un libro polacco che mai arriverà in italiano e come gioco tratto da un libro che a me piacerebbe vedere me ne sono venuti in mente diversi tutti però d'avventura come per esempio potrebbe essere il fumetto di Trigan o per esempio Slam Dunk un uno contro uno però siccome io sono uno che va a cercare le cose particolari mi sono anche preso il libro fisicamente che volevo farvi vedere che è questo si chiama Le prime 15 vite di Harry August tra parentesi ve lo consiglio senza spoilerare è la storia di questo tizio che è un uroborano quindi lui nasce vive muore e poi rinasce da capo pur ricordandosi quello della vita precedente quello che ha fatto la vita precedente quindi fare un gioco magari tipo un village dove si crea qualcosa che ha a che fare con la vita di un personaggio a un certo momento resettare il tabellone da capo mantenendo l'esperienza presa nel turno prima e così per il proseguo della partita secondo me sarebbe un qualcosa di diverso da un gioco di avventura o di schirmish magari derivante dai fumetti o da quello che è prettamente avventura che ci potrebbe anche stare bene tanto non ci crederai ma quel libro lì ha ispirato il primo ciclo narrativo della gestione Ickman degli X-Men della Marvel davvero? eh sì succede proprio questo che c'è una mutante che è Moira McTaggart faccio questo piccolo spoiler che è dei film e dei fumetti di Marvel fino a quel punto lì nessuno sapeva se fosse una mutante che si scopre che l'era ta muore torna indietro rivive e quindi farò vedere tutti i cicli che figata eh sì sì ma sarà la prossima esposizione di Marvel Champions probabilmente perché ormai era super le cose alternative adesso non ho parlato dell'era di Apocalisse cioè finita il cercatore per un gioco è molto figa comunque molto accattivante bravo il cercatore l'unica cosa mi è venuta in mente diversa dall'avventura avventura schirmish botte da orbi secondo me qui invece c'è qualcosa di diverso eh ma vedo che da casa ci hanno cominciato a sparare dei libri dei giochi inventati che ragazzi scatenatevi che state tirando fuori cose fighissime bravi doc allora io direi che mi trovo abbastanza in linea con quello che avete già detto soprattutto sul discorso come appunto la perdita dei diritti scateni l'inferno e anche la la povertà stessa di giochi che prendono un tema lo appiccicano sopra qualche meccanica e buttano fuori un titolo spiegando le vele del libro da cui è tra virgolette stato tratto quando in realtà ha poco a che fare i veri i veri i veri con la B maiuscola di questa tipologia sono proprio quelli che nascono secondo me da quella che è la parte proprio di narrazione del libro che pescano a piene mani dalla storia e cercano di crearne un un estratto che faccia rivivere la storia stessa no per cui sono questi secondo me i titoli che meglio sono riusciti diciamo no in generale e quindi io vedo questi proprio come i libri tratti scusate i giochi tratti da libri detto questo dobbiamo fare i conti appunto con quello che è la parte economica commerciale del mondo anche dei giochi perché è chiaro che per una maggiore visibilità si cerca di mettere anche delle ambientazioni che attirino per quello che hanno fatto i libri persone e i giocatori e quindi ci sta detto questo ci sono veramente tanti libri che potrebbero ispirare giochi di anche molto innovativi secondo me perché potremmo veramente pescare tante cose da molto e io invece voglio citarvi Lois McMaster Bujold che ha scritto il ciclo di Celiun ha scritto molti cicli il ciclo di Celiun in cui il primo libro è l'ombra della maledizione che vediamo se ho un'immagine da condividervi ci porta in sostanza vediamo qua eccolo qua questo qui ci porta in sostanza si vede poco scusatemi ci porta in un mondo low fantasy dove siamo in un mondo medievale dove c'è comunque la presenza di un po' di magia più che altro di tipo divino in cui uno sfortunato si trova al suo malgrado a dover ritornare in auge presso la nobiltà e per farlo si metterà a fare da tutore alla figlia di una nobile donna e da qui partirà tutta una serie di situazioni che si chiuderanno alla fine del libro in un cerchio perfetto cioè questa è la cosa bellissima delle storie iniziano magari ti ti portano fuori strada ti ti fanno fare mille domande di dire sì ma dove stiamo andando e alla fine poi ti chiudono ti chiudono la cosa in maniera sorprendente ma perfetta ma perfetta e questo libro è stato costruito molto bene e vi giuro se ne potrebbero fare veramente tanti di giochi da questo non solo uno perché c'è il punto di vista delle divinità che sono potenti ma non possono permeare più di tanto il il lato umano la dimensione umana se non facendo in modo che gli stessi umani si mettano a disposizione e quindi c'è questa cosa bellissima ma c'è anche tutta la storia che ha un sacco di situazioni da assedi a viaggi avventure c'è di tutto c'è veramente di tutto profezie appunto maledizioni da sventare è un libro colmo di un sacco di cose a me è piaciuto tantissimo i suoi due seguiti di questo sono altrettanto belli forse non al pari del primo io credo di aver apprezzato il primo e il terzo soprattutto il secondo forse la protagonista mi piaceva un po' di meno però insomma è valido però ripeto questo secondo me veramente si potrebbe pescare a piene mani inventare almeno dieci giochi secondo me questo titolo ho capito interessante io vi confesso una cosa io leggo poco perché purtroppo non ho molto tempo ma ascolto un sacco infatti consumo audible praticamente se dovessi veramente anche io sono indeciso tra due uno come ambientazione mi piace molto la saga di attraverso specchi che è praticamente un mondo post apocalittico dove il mondo è esploso si è diviso in arche ogni arca regna una divinità che poi in realtà è semplicemente una persona eterna che non invecchia ed è abbastanza carino perché ha tutti dei risvolti di inganni giochi di potere e simili ci sta proprio a perfezione con ambientazione per il gioco da tavolo però io vorrei vedere il gioco da tavolo dell'Orlando Furioso ragazzi quanti il prologo dell'Orlando innamorato è fuori di testa è pieno di roba fantasy tra l'altro come come epopea di fatto anche quella di giga ma di epopete papà via prendo un commento è questo ma è possibile che non ci siano giochi ispirati agli racconti di Asimov ce ne sono non mi pare qualcosina si è che non sono intitolati con il nome del racconto ecco perché avevo il dubbio avevo il dubbio è qualcosina che ha preso Asimov ragazzi vi vengo un po' incontro su questa cosa perché io non sapevo come orientarmi per capire quali giochi sono ispirati dei libri e diciamo la parola chiave su BGG sono i novel based ok dovete cercarla con questo quindi qui vedete c'è una lista di giochi qui sono ovviamente divisi per rank ma non dovete assoluto dovete vederli perché ovviamente posso fare un po' di zoom perché vediamo poco sì certo ovviamente vedete sono 2900 2955 titoli accertati su BGG ma secondo me ce ne saranno qualcuno di più e scoprirete veramente delle cose interessantissime soprattutto se andate a indagare nelle pagine più avanti perché adesso ovviamente scusate vado se andate a pagina 120 esatto c'è qua zoom un po' che su curioso allora la guerra dei mondi ad esempio figata ad esempio The Witcher ovviamente i moschettieri che comunque è un libro che ho detto Stashley Trooper quello che dicevo io prima quello degli anni 70 Considon Verona giusto che è ispirato a Roma Giulietta ragazzi ve lo dico il predominio del Signore degli Anelli Dune e ovviamente Lovecraft però Column of Fire esatto sì l'aveva citato prima tutta la parte dei libri di decido appunto Colonna di Sfuoco Mondo Senza Fine e i pilastri della Terra qualcuno aveva scritto un commento sì era Arturo mi pare che avesse scritto prima quindi grazie Arturo per aver citato Michael Stroghoff la saga dei pilastri della Terra eccola lì esatto Michael Stroghoff anche ve lo ricordate voi questi che hanno giocato della Devere poi Sherlock Game of Thrones anche ce ne sono parecchi ma ragazzi è veramente bello da spulciare perché magari un libro che voi avete letto pensate che non c'è il gioco magari in questa lista riuscite a trovarlo e vi ricordo anche il nome della rosa che abbiamo citato già in varie altre puntate per altri motivi però Giro del mondo di 80 giorni l'abbiamo citato prima durante le presentazioni una marcia di tutto di più anche di Harry Potter ce ne sono tanti effettivamente anche quello e ricordiamoci anche la saga del mondo disco di Charlie Pachet i segreti di Monte Cristo quindi anche libri piuttosto molto particolari non so se avete Il conto di Monte Cristo è veramente un bellissimo romanzo Don Quixote gioco su Don Quixote e mi attira un sacco anche sulla Bibbia anche sulla Bibbia perché no Archie di Noè credo sia la Bibbia sì 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 poi il pianeta delle scimmie il pianeta delle scimmie io ho preso il film non sapevo ovviamente c'era un libro ma non sapevo che non sapevo effettivamente mi colmi preparato questa discord che ha detto prima il buon ma ragazzi andate veramente a sfogliarvelo basta che cercate su BGG o su Google novel la guerra dei bottoni la guerra dei bottoni no ragazzi sì tra l'altro ci sono giochi interessantissimi che magari escono un po' fuori dai binari di quelli più famosi e trovate qualcosa che potrebbe piacere di tantissimo diventare il vostro nuovo gioco tra l'altro io questo gioco qua lo saprevo ma ci deve essere un libro cioè ce l'ho io questo gioco ma non so poco che c'hanno un libro ispirato infatti sono stracurioso che si chiama Arakan Wars adesso andrò a scoprire che libro è adesso sono curioso anch'io hai capito sei curioso sta cosa riprendo un po' di commenti fai di commenti che ce ne sono tantissimi dico scuso già se non riusciamo a leggerli tutti ragazzi siete veramente tantissimi scusate dobbiamo ottenere il tempo per il maledetto memento mi spiace ma si dice droga ice card lo aveva l'occhiato un po' di tempo fa ma senza approfondire com'è ne parleremo dopo in maggio giusto doc te ne parlo io te ne parlo io massimiliano non è male Drugo cita una cosa sicuramente prenderò l'Ethernauta ho schifato il gioco di Targal e sto seguendo il prevedì di Incal gioco ispirato al coppolavoro di Mobius vedremo l'Ethernauta ispirò un sacco anche me fai bene perché io ho provato la demo con Flora e penso sia uno dei giochi che ci è piaciuto di più durante la manifestazione dello spi per cui secondo me è un centro quel gioco ne siete usciti incantati da quel tavolo mi ricordo si si la devo una volta che trovo un gioco bello hai gridato al miracolo quella volta quasi quasi poi abbiamo ci dico che di Starship Troopers c'è la mia su games sono andato a vedermi l'Arturo è una figata pazzesca cosa mi hai sbloccato ma è bellissimo cioè proprio quello del film con immagino Davide che dice immagino un dungeon con un rispirato le montagne e la follia ovviamente non parlo di quella attualmente in commercio quello che dico io è una porcheria gigantesca sono sicuro che ne vedremo di sicuro di giochi io adoro quel racconto provati il gioco di carte ispirato alle montagne e la follia è veramente molto carino c'è proprio il box della fantasy flight quindi ci tra consigliamo Barbara per me l'habilità anche se penso sia stato fatto prima il film e poi il libro che può essere e come gioco che mi ricorda bene il libro è il nome della rosa i labyrinth hanno fatto effettivamente il gioco di deck building se non ricordo male e non hanno fatto un dungeon crawler su un gioco che si chiama labyrinth porca miseria cioè io quando l'ho visto mi state prendendo in giro me lo ricordo i cogli con i pupazzi che cantano dance crazy dance però immaginare il boss fight con i pupazzi che cantano che si staccano la testa devi stare attento a non perdere arti wow invece no giochi per famiglie vabbè casione anche Alberto ci dice io proseguendo il momento dei member stile fantasy vorrei il gioco di labyrinth probabilmente è già stato fatto qualcosa conosco solo un adattamento materiale per hero questo si l'avevo sentito parlare anch'io è un mistero ragazzi se riusciamo a prendere i diritti lo faccio io riccardo riccardo cita stai dando quelle su grande saga fantasy hanno 10 libri in ordine di preferenza la ruota del tempo la spada delle verità e i guardiani di Gahol beh la ruota del tempo mi ha veramente conquistato perché hanno fatto anche la serie tv della ruota del tempo che è una porcheria gigantesca per carità per carità distrutto il libro cioè hanno distrutto sia la ruota del tempo che la spada della verità hanno fatto la combo anche il signore degli anelli se volendo è stato nelle serie quindi io non ho letto i guardiani di Gahol ma mi auguro che non ne facciano la serie perché poveri sarebbero maciullati anche Shanara avevano fatto la serie che era una roba orribile mamma mia incredibile mamma mia mi hanno rovinato anche quello la ruota del tempo era proprio brutta poi ben due commenti leggo quello di Dugo che ci cita la svastica sul sole futuro dispotico in cui Lass ha vinto la guerra e hanno trattato una serie dell'uomo dell'alto castello l'alto castello sì 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 secondo me potrebbe venire fuori una figata pazzesca ma cos'è Philip Dick e la vastica nel sole sì sì assolutamente Dick ma anche un gioco su Blade Runner oppure anche gli androidi sognano gli androidi sognano pecore elettroniche non vi ricordo la domanda pecore elettriche sì pecore elettriche poi ci sono la saga della torre nera che effettivamente giochi da tavolo non mi è vissuto il GDR sì il film è orribile sì ah dici The Dark Tower ma non c'entra niente col libro no 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 già è un GDR il gioco da tavolo non ho mai visto sulla torre nera ma era meglio non vedere neanche i libri secondo me comunque no 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 io ho letto l'adattamento fumetti era bruttissimo non è così brutto no non si può vedere io non sono un gran fan di Stephen King mi spiace no vabbè e allora a parte di breve Stephen King ha fatto dei libri bellissimi ragazzi un gioco sull'ombra dello scorpione un gioco sull'ombra dello scorpione un gioco su un gioco su mamma mia l'ombra del scorpione hit ok lascia stare beh che i libri di King bisognerebbe leggerli tutti in funzione della torre nera cioè quando capisci che sono tutti collegati quindi vai a spulciare in ogni libro quella parte che ti spiega che cose per me atto e allora cambia tutto bravo bravo quella è la chiave di lettura giusta poi chiaro che uno lo può leggere in maniera indipendente però poi pipì gioco già basato sul libro i pilastri della terra uno dei primi giochi di piazzamento lavoratori con un bel twist di conversione di risorse in punti di funzione artigiano usato se me lo ricordo molto carina capiamo carino sì poi ci c'è ci danno Moby Dick una bella bianca di Jacob la matriciana questo cita un cibo ragazzi grandissimo Canopus che citando il favoloso saga di House of X o Cracò dimostra titolato non esageriamo però sì è una bella saga ah il libro di Aragon il film sì è vero gran peccato porca miseria perché Aragon ma a parte che comunque i libri io non sono andato avanti ma i libri mi hanno detto che sono andati anche malino anche dopo come storia ma allora l'inizio non era male dopo cominciamo un po' eh parliamo il mio sogno di gioco basato su libri è il trono di spade fatto come wargame card driven nello stile di Hirae Stand l'attuale gioco del TR di stile diplomacy mi ha sempre lasciato un po' deluso ah del trono di spade stile diplomacy mi ha sempre lasciato un po' deluso beh ma il trono di spade il gioco da tavola è figo secondo me era male era tanto bello tanto 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 bello ma no stavo pensando il trono di spade più Hirae Stand cioè deve essere proprio quel quel mattone che ti arriva in faccia che ti piaccica sopra il muro veramente e non ti rialzi più deve essere un gioco che toglie le amicizie deve essere un tipo di gioco così c'è poco a fare sì sì perché è ancora più bastardo e mamma mia poi vorrei tanto un bel narrativo solitario inventato dei regni giovani in cui interpretare Eric il melibole il melibole cosa hai tirato fuori Drugo mamma mia mamma mia oh l'altro buffo ci dice anche Don Quixote Don Quixote ma avete visto che ce n'era uno in quella lista quindi andate stavo pensando ma di Dragonlance hanno mai fatto nulla beh ci sono tutti i GDR sì sì no ma dico il GDT no perché fanno tutto Forgotten Reams c'è le saghe Dungeon Crawler sono tutte ispirate al Dritz il il tempio del bene del male che insomma quelle robe lì insomma però peccato perché Dragonlance io lo preferisco quasi a Forgotten Reams come ambientazione assolutamente e poi Matteo ci dice di squad che bello che è materiale per farci dieci serie altrettanti giochi beh cioè mettiamo così anche giochi ispirati ai libri di Neil Gaiman mi sa Sandman Sandman o Golden American Goth sì ah che bello American Goth il libro lì è fantastico tra l'altro Sandman ce lo vedrei che uno è Sandman fa l'overlord e gli altri devono districare Sandman è il traforte non potresti mai averlo come personaggio a meno che non combatta contro divinità però insomma saga su Monkey Island non è un nale comunque Gallone l'avevo visto il tuo commento l'ho saltato perché non c'entrava tra quei libri però sempre qua direi che è il caso di iniziare a parlare di giochi perché sono l'inizio e mezza fra un po' eh sì chi vuole iniziare se volete vado io vai vai dobbiamo essere un po' fulmini i ragazzi perché se voglio farlo il mezzanotte ma che vada se dite facciamo una cosa prendete quello più significativo ma che vada faremo un giro solo perché sennò sì dai e citiamo il secondo magari facciamo così sì l'altro citiamo dai vai cercatore allora il primo è un gioco che secondo me maledice fa l'instabuy appena ne parlo scusami hai fatto cercare utopia come un pazzo nenni store adesso non puoi fare il visa lo so infatti è la mia coppia e premetto che non ce l'ho ancora però gli sto puntando gli occhi addosso da parecchio tempo è tratto da un GDR quindi insomma l'ho fatto andare bene come tratto da un libro ed è The Snally Gaster Situation o come si pronuncia la prima parola allora che cos'è questo gioco intanto è un cooperativo induttivo deduttivo è già una cosa un po' particolare c'è con tabellone ambientato negli anni 80 dove ci sono dei bambini che devono riuscire a far fuori un mostrone che sta cercando di fare del male alla cittadina nella quale vivo questo è Stranger Things esatto è molto simile è molto simile allora intanto i bambini saranno tutti meno uno uguali quindi dovranno spostarsi con i loro mezzi di trasporto ci sarà quello con la bici quello con lo skateboard insomma a seconda del mezzo che viene assegnato al bambino avrà dei tipi di movimento diversi e poi ci sarà un bambino che sarà il prodigio del gruppo che però è stato imprigionato dal mostro e allora cosa succede che questo bambino gioca con lo schermo lo chiamo bambino insomma questo giocatore gioca con lo schermo e deve cercare attraverso l'utilizzo di carte di far capire agli altri giocatori dove è tenuto prigioniero queste carte le dovrà giocare su tre mazzi degli scarti in modo da dare delle indicazioni su dove potrebbe essere queste indicazioni potrebbero essere su i punti cardinali oppure su per esempio dei parchi degli edifici particolari vicini a quel luogo insomma cercare di far capire agli altri dove potrebbe essere ma al tempo stesso sulle stesse carte che utilizza per dare le indicazioni saranno presenti anche i movimenti sia del mostro che potrebbe in questo modo andare addosso ai suoi colleghi e quindi fare del danno oppure anche dei federali che potranno catturare i bambini e anche lì mettere un po' i bastoni tra le ruote questi classici poliziotti che non hanno capito niente di quello che sta succedendo ci sono quattro mostri all'interno della scatola che danno quattro obiettivi diversi alla partita eventualmente anche dei connotati diversi alla risoluzione anche i poteri del bambino particolare sono quattro e ne viene sorteggiato uno e solo quando il bambino viene liberato il bambino stesso capisce che cosa può fare di particolare e quindi ecco a seconda dello scenario che viene messo nella partita dovranno fare giocatori delle cose diverse però principalmente girare per gli edifici cercare degli oggetti che potrebbero servire per far fuori il mostro o per loro uso e consumo cercare questo bambino con il quale puoi fare eventualmente la battaglia finale con il mostro il tutto per arrivare in fondo e vincere la partita o assecondando tutti i vari step dello scenario per far fuori il cattivo oppure liberando il bambino più forte per fare una boss fight in fondo e quindi far fuori materialmente il mostro tutto questo cercando di scappare dalle grinfie dei poliziotti nascondendosi nelle case sugli alberi e poi trafficando un pochino tra di loro anche con gli oggetti mi ha sempre intrigato io questo a casa non ce l'ho però mi sono documentato abbastanza bene su come funziona perché anni 80 bambini e mostri secondo me sta sempre bene come connuvio sta dicendo figlio è un esatto molto probabilmente si non lo prenderei perché ci assomiglia troppo c'è un libro che parla di questa cosa è un gioco di ruolo ah quindi i giocchi di ruolo valgono come libri è un libro per me è un libro io non ne ho mai aperto uno quindi per me è un libro c'è le pagine di carta anche i libri di game allora valgono come libri te la faccio passare ma secondo me è molto borderline è un po' borderline io mi ricordo a scuola c'è un esempio scusatemi c'era il classico libro per l'estate e le medie io ho preso il libro game ovviamente no un po' solitario e il professore mi ha detto non conta come libro e io ero arrabbiatissimo mi ha detto come non conta come libro vabbè guarda valeggi ti capisco io le no le medie ero che scrivevo quando c'erano quei temi tipo inventati un racconto scrivo robe di fantascienza esatto era una era una guerra perché gli insegnanti dicevano che era perché giocava troppi videogiochi perché scusami tu vai d'asimo fai di lì chi gioca troppi videogiochi ma c'è che cavolo hai nella testa e Tolkien che gioca troppo a D&D cioè non so veramente non so buh senza parole erano altri temi One Man's Zone ha visto troppo forum esatto sì era un problema perché significa che giocava troppi videogiochi ma capisco che non erano belli come racconti e fantascienza ok però insomma già vabbè cercatore visto che ci sei vuoi anche citare velocemente il secondo titolo proviamo a farla così sì il secondo è Rising Storm che è un gioco ispirato a dei a dei libri che esistono solo in credo ebook e solo negli Stati Uniti che è un gioco che è uscito da pochissimo tra parentesi su BGG c'è poco o nulla quindi avevo messo in una chat privata il link al sito dell'editore che è di fatto un gioco a carta alta vince tra parentesi questo ha una grafica che è abbastanza particolare ma anche bella e i giocatori devono giocare delle carte prima acquisendole con una specie di draft scoperto a centro tavola e poi giocandole cercando poi di creare delle concatenazioni che faranno sì che se arrivi in fondo al turno dove un po' di personaggi saranno stati ammazzati un po' rapiti un po' messi da parte dove il giocatore che avrà la carta risultante di valore più alto sarà il vincitore della mano e prenderà i punti della mano e di fatto è su una specie di futuro classico di quelli distopici con i militari al comando ci sono sia i militari che i politici ogni carta con il suo potere particolare i militari di solito aggregano i punti delle carte insomma due carte militari insomma hanno insieme valori come se fossero una sola e mentre i politici hanno dei poteri particolari che fanno scartare rapire le altre carte si può fare anche delle strategie per andare a rubare i soldi a chi vince dalla mano andare a rapire delle carte quindi per poter utilizzare successivamente a chi vince insomma ci sono vari modi per fare i punti e è un gioco molto 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 particolare questo autore in particolare fa sempre dei giochi con delle meccaniche un po' di sotterfugio anche se delle volte l'ambientazione non lo consente qui invece ci sta anche bene però ecco un semplice gioco ripeto carta alta vince con i poteri particolari delle carte è figo io ho il prototipo perché ci feci l'anteprima al suo tempo ma è veramente figo mi invoglia a zero quando hai detto carta alta vince mi è gasato invece perché c'è cos'è questa situazione cyberpunk c'è anche un po' di starcraft dentro ma è carta alta vince ma le dice è carta alta vince hanno preso l'ambientazione di un fantascienza però ma c'è un libro di questa cosa qui c'è una serie ah una serie ok ok sono sicuro che anche l'autore di questa serie gli hanno detto che giocava troppi videogiochi i libri cyberpunk sono fighissimi ragazzi ve li straconsigli anche i Warhammer 40k sono dei libri pazzeschi cioè sono miliardi da leggere ma sono bellissimi chi vuole essere il prossimo? vuoi cosa dobbiamo? vai doctor vai allora accontentiamo Massimiliano direi e parliamo di The Lord of the Ice Garden titolo del 2014 che appunto non immediatamente ma dopo un po' di tempo si scopre essere tratto da un romanzo una saga fantasy polacca di Jaroslav Gredowicz e di cosa parla in sostanza il libro? il libro e così anche il gioco parla di un mondo il classico Midgard ok che vive in un equilibrio fragile bilanciato dalla magia è il classico un po' medievale in cui quattro scienziati dalla terra non so se per un guasto dell'astronave comunque atterrano su questo mondo e diciamo loro sono pieni di buone intenzioni per portare sviluppo e tecnologia all'interno di questo mondo quindi però ognuno di loro pian piano si fa corrompere dalla parte magica di questo pianeta e gli fa esaltare al massimo la loro idea di pianeta ideale e quindi queste quattro scienziati diventano in tutti gli effetti quattro divinità con poteri diversi in base a come vedono il mondo di Midgard tutto questo come si traduce in gioco ci traduce in un gioco praticamente in cui questi quattro personaggi sono interpretati dai giocatori ok e ognuno di questi quattro personaggi come immaginerete avrà capacità asimmetriche ma non tanto nelle azioni quanto nella messa in opera nel posizionamento proprio e nella disponibilità delle proprie unità oltre a questo uno dei tre fattori per vincere la partita sono proprio degli elementi di vittoria esclusivi per ogni singolo personaggio quello che deve fare l'uno non lo può assolutamente fare l'altro quindi voi avete un obiettivo molto preciso che dipende dai territori che dipende dall'unità che possedete e da come riuscirete poi a gestire tutto questo altri elementi interessanti in questo gioco sono il fatto che appunto c'è la corruzione che avanza quindi voi dovete tenerla a bada e cercare di non perdere troppo la vostra reputazione perché a seguire questi quattro scienziati dalla terra è stato mandato un cacciatore che si chiama Vucco e che andrà a rompere le scatole in chi avrà la reputazione più bassa nel territorio in cui in sostanza avrebbe il massimo risultato tra l'altro questo Vucco andrà a uccidere le miniature proprio le nostre truppe proprio specializzate per cui è veramente una seccatura che ci inseguirà ovunque ecco il gioco appunto si tratta appunto di andare a posizionarci turno dopo turno nei vari territori per massimizzare il punteggio in ognuno di questi e portarci avanti sia nella track dei punti che avrà valore se al termine dei turni di gioco nessuno avrà conseguito l'obiettivo personale del personaggio oppure qualora la track diciamo della corruzione avanzasse fino alla fine sarà invece chi ha la reputazione più alta da vincere quindi ci sono tre possibili vie per vincere il gioco e devo dire che al tempo mi aveva convinto molto ci abbiamo giocato anche volentieri dopo tante partite alla fine l'ho venduto per far spazio ad altro però devo dire che al tempo il fatto di aver visto così tanta simmetria non solo nei personaggi ma anche nei loro obiettivi stessi secondo me eravamo piuttosto avanti per il 2014 devo dire secondo me per cui è stato sicuramente un titolo interessante tratto da un libro totalmente sconosciuto ovviamente che come diceva il cercatore all'inizio mai mai vedremo in Italia però che comunque ispira la tipologia di storia un po' vichinga un po' miggardiana un po' medievale un po' la scienza che si mescola alla magia e quindi valeva la pena citarlo secondo me anche perché comunque ha fatto storia me lo ricordo però non mi aveva impressionato esageratamente sa che dieci anni fa non è ancora pronto probabilmente la simmetria nei German eh sì è arrivato in un momento mi piacerebbe di giocarlo oggi vedere come la prenderemo ma sai che credo che oggi ci piacerebbe di più per certi aspetti perché secondo me siamo entrati un po' più in linea con certe cose che l'autore al tempo aveva buttato lì sì questo al suo tempo era un po' come Marty McFly che diceva in fondo a Ritorno al Futuro ai vostri figli piacerà questa roba sì è un pregursore uguale visto anche il video con il super ciuffo uguale comunque è un gioco veramente geniale perché aveva tre condizioni di fine partita di base più c'erano tutte le condizioni di alcuni personaggi qualcuno improponibile qualcuno ce la poteva fare a farcela e tutti estremamente ben caratterizzati cioè non gli mancava nulla a quel gioco lì poi c'era anche interazione e c'era anche il giocatore farlocco che ti veniva a mazzolare le miniature che costavano tantissime risorse e innescavano una delle condizioni di fine Vucco era una piaga veramente cioè quando rompeva le scatole e tutti cercavano di far cadere praticamente con la corruzione gli altri in maniera tale che da schivarle insomma no se no chi sapeva già di beccarsela cercava di sacrificare magari la miniatura sì speciale ma meno di valore però era difficile era difficile e se volete faccio il giro anche con l'altro titolo sì sì va in velocità sì che dopo ricopriamo i commenti ragazzi l'altro che vi cito è un titolo abbastanza sconosciuto semi sconosciuto ed è embers of memory che è questo qui che già vi mostro finché la regia fa il suo corso embers of memory è tratto dal ciclo di throne of glass del Sarah J. Maas è un libro che parla è un classico genere young adult giusto per capirci no ecco un genere per ragazzi fantasy l'eroina è un'assassina che poi comunque dovrà desteggiarsi fra vari personaggi e di cosa come viene trasportato il gioco qui dentro pesca in realtà una situazione particolare della vita di uno dei protagonisti in cui la regina si trova di fronte a una serie di situazioni che andrebbero a schiacciarla proprio psicologicamente e deve far forza con i suoi ricordi positivi per cercare di diciamo superare questa questa situazione che la sta travolgendo quindi fanno riferimento effettivamente a una parte del libro e cosa succede questo è un gioco da due in cui durante il turno si starà in totale silenzio e si dovrà cercare di andare a risolvere un rompicapo fatto dai pensieri della mente che vanno a generarsi attraverso il piazzamento di queste carte cercando di far rivivere i pensieri positivi così da sbloccare quindi mandare avanti la sequenza di gioco cosa interessante è che il manuale di base vi dà i primi tre step della saga quindi vi dice intanto affrontate questi e superateli quando sarete pronti potete aprire il mazzo di gioco che vi porta alla campagna che è questo qui che vi mostro io se vuoi riportarmi a tutto schermo eccolo qui questo non l'ho mai aperto perché io ho affrontato solo i primi due dei tre che c'erano di base e il deck da affrontare praticamente quando si saranno risolti i manuali il mio è ancora sigillato perché non l'ho mai aperto tra l'altro bisogna essere in due quindi io raramente mi trovo in due a giocare e quindi avevamo giocato le prime partite scritte sul manuale poi questo non è mai stato aperto ma qui c'è una campagna da giocare e quindi varie situazioni da sbloccare con i pensieri della regina e di base appunto è una risoluzione di rompicapi e il libro non l'ho letto per cui non so dirvi quanta aderenza ci sia però il fatto che stiamo parlando di un gioco ispirato a un libro che fondamentalmente si è best seller ma secondo me non lo conosciamo molto in Italia e comunque ci hanno pagato i diritti su questo per farlo credo che abbiano sfruttato comunque a pieno la parte della campagna per farla aderire alla storia e quindi mi piaceva l'idea e mi piaceva appunto il fatto di ragionare anche sul subconscio di questo personaggio che appunto va a ripescare uno dei momenti del libro ok d'accordo qui secondo me se posso fare un appunto quel gioco lì viene edito dalla Osprey che è un editore inglese che fa sia libri che giochi e quindi si fanno le cose in casa cioè si prendono diritti da soli e fanno tutto potrebbe essere che secondo me si avrebbe senso dovrei controllare se effettivamente anche il libro della Osprey però in Italia una realtà così non esiste per esempio in Germania c'è la Cosmos che fa così in Polonia c'è la Nash Nash Axegarnia come si dice però ecco all'estero è comune questa cosa qua o a Francia la scena c'era qualcosa mi sembra di ricordare però non ce l'ho ben presente parlo di 10-15 anni fa forse qualcosa c'era ok quindi prendiamo un po' i commenti facciamo anche una pausa commenti dal pubblico vediamo un attimino che cosa che cosa ci avete detto da casa sono stra curioso Gaetano doc di Dragonlance hanno fatto di decente Dragonlance Shadow of the Dragon Queen che è uno skirmish che si integra con una campagna di D&D ma purtroppo non se ne parla molto bene ecco peccato che a me gli skirmish purtroppo a me gli skirmish stanno un po' così anche perché Dragonlance skirmish cioè con tutta la storia non è che c'è bravo 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 con tutto quello che c'è uno skirmish dovevano farmi dai dai io voglio fare Davide mi ricorda che di Nick Hyman ha scritto Stati in Emerald un racconto basato sui scritti di Lovecraft da cui è stato realizzato un gioco da tavolo omonimo ritiro quello che ho detto meglio non fare più giochi da tavolo sui racconti di Nick Hyman non è piaciuto anche se la seconda edizione è stata migliorata eh sì sì questo è vero hai ragione adesso ci rimuove e ci ricorda Emerich della mitica Evangelisti lei del Evangelisti si chiamava sì anche era il Player One potrebbe essere interessante Emerich sarebbe veramente interessante questa è una bella domanda ciao ragazzi voglio chiedere quanti romanzi conoscete che sono usciti ispirati ai giochi da tavolo non giochi ispirati ai vari libri ma il contrario il romanzo è uscito dopo il giochi da tavolo so che esiste il romanzo dei colori i coloni di Catan il romanzo della guerra della rosa nera di Black Rose Wars che ha scritto il romanzo che collega i due cicli bianco e blu a Time Stories sapete per caso di altri grazie mille del tema libri il gioco che è stupendo anche a me piace un sacco come tema beh io l'ho detto beh dipende cioè perché se vai in casa GV ci sono un bato di libri ma sono belli ragazzi io ve li consiglio sia anche quelli del fantasy che quelli fantascientifici poi abbiamo detto prima quelli di Arkham Horror che non ho avuto ancora occasione di leggere ma se non sbaglio sono anche stati tradotti in italiano perché il problema è che alcuni ovviamente non vengono tradotti in italiano sono un po' di nicchia se vogliamo non so se qui a Arkham Horror si trovi anche in italiano mi pare che l'asmodia aveva lasciato il libro in italiano sì sì forse il primo non tutti questa cosa qua è un fenomeno più più facile per i GDR nel senso che ci sono create molte ambientazioni da cui poi è venuta la voglia proprio di scriverci delle storie dentro anche ispirate proprio da delle giocate stesse per cui la diventa molto più naturale penso tutta la parte di Drift to Urden e Compagnia Bella hanno scritto libri se vogliamo però rimanere sui giochi da tavolo mi ricordo chiaramente che l'autore del romanzo La guerra della rosa nera che mi scuso non ricordo il nome ma lo conosco anche dal vivo mi giuro ha scritto anche una sua opera autopubblicata dovreste trovare l'audolibro su YouTube ispirato a Fai Tim Firo ah ok ok dovreste trovare qualcosa su lui e penso sia l'unico caso che mi viene in mente oltre a quelli dati citati poi si ha ragione il doc il resto con il GDR forse qualcosa di più è più facile perché hai già un mondo preparato da cui puoi attingere a piene mani se ci sono già state fatte delle giocate durante sessioni è facile prendere spunto allora Dante si inferno che è ispirato alla Divina Commedia vabbè no su BGC sono andato subito un pochino a guardare cosa c'è c'è interessante un libro su Starry lo voglio leggere assolutamente poi ce n'è uno su Galaxy Tracker bellissimo lo voglio poi altri che abbiamo citati noi ma non non vedo altro ah beh quelli di Magic effettivamente se possiamo considerarli è vero è vero vabbè gli altri invece ok gli altri direi proprio non ne vedo altri ok quindi c'è Red Rising però il contrario c'è prima il libro per il gioco ecco invece per rispondere al cercatore cercatore ho controllato ed è la Bloomsbury che ha edito il trono di ghiaccio per cui magari sono consociate chi lo sa o magari sono gemelle chi lo sa perché dopo sai magari pubblichi i libri con un con un etichetta e magari giochi con un'altra ma in realtà sei facente parte magari dello stesso gruppo editoriale no per cui potrebbe essere benissimo però così sembrano due cose diverse il libro del GDR io mi ricordo c'era una saga scritta da Martin nello stesso del trono di spade che si chiamava Wild Cards che era basata su delle giocate ad un gioco di ruolo fatte negli anni in 70-80 con altri autori e ci aveva fatto questa saga dei libri credo che fossero delle antologie comunque si si può essere benissimo vabbè andiamo avanti con i commenti poi Giuseppe Bianchi ci fanno una serie di commenti ciao tutti ispirati al mitico giro del mondo in 80 giorni sono usciti almeno tre giochi Wild Cardsburg anni 80 ci giocavi in famiglia poi mi pare uno di Asterion e uno e un David è vero è uno che io però non mi ricordo più di chi sia l'autore di quale sia non era la Wild Cards sicuramente è quello della Devir se non ricordo male forse può essere quello della Devir poi ci dice di recento è uscito anche un 80 Days la cui ispirazione è più blanda non l'abbiamo giocato mi è capitato di giocarli conoscere grazie quello lì che purtroppo però non mi ricordo chi è un gioco di percorso abbastanza facile poi dai romanzi di Verne ho visto che c'è un Nemo's War poi il recente Michelle Strogoff c'è Roma ancora questi abbiamo provati tutti e due e non sono malvagi Strogoff non era soprattutto se hai letto il libro cioè giocarlo così non ti dice niente ma se c'è il libro diventa appucinante poi ci dicono beh Diabolic gioco ben tematizzato anche tra meccanica e tema questo devo ancora provarlo però ero curioso effettivamente Red Rising anche un gioco molto particolare molto ambientato sono l'autore che non ho mai letto la saga c'è l'autore dice ci fidiamo sulla parola ok ci fidiamo adesso gli autori vero e poi ci sono i libri che tu hai letto l'Imperium è vero mi sa che ne ho visto anche uno però era in tedesco allo Spiel mi sembra di ricordare perché c'è la faccia del leone sì il problema è che appunto questi libri della Fantasy Flight che comunque ha fatto diverse collane e sono arrivati in italiano e poi Google e Boss ci dice Record of Lord's War è basato su sessioni di D&D così come i primi volumi di D&D possiamo citare anche i funghi di Intel giustamente in Intel è un gioco di ruolo quella è una cosa proprio unica anche tra l'altro perché è un gioco di ruolo che hai visto tramite YouTube salutiamo i ragazzi di Intel e dopo da lì hanno fatto il gioco da tavolo che abbiamo fatto già hanno fatto il gioco da tavolo ma hanno anche se non dico l'amore hanno anche un fumetto hanno i fumetti hanno anche hanno fatto anche dei moduli per il GDR cioè sono andati dentro 89 magari il fumetto e i moduli sul GDR sono carini il gioco da tavolo è una porcheria lasciate perdere comunque il gioco da tavolo è brutto di Intel anche abbiamo qui un'attestima di Intel che mi sta guardando malissimo ma va bene così è vero è così e così ma gli dici vuoi andare tu? vado io vado io vado io ragazzi sapete che io porto sempre dei titoli che spesso mi dite ma io non riesco a trovarli non ci sono in italiano stavolta ho detto no ragazzi vi voglio mettere in una situazione di comfort con giochi che potete trovare in italiano che sono neanche costosissimi quindi proprio una cosa semplice e vado a parlare di una saga che odoro che è quella di Unmatched e ce n'è uno in particolare che si rifara un pochino diciamo all'universo di Penny Dreadful per intenderci per chi non sapesse che cosa sono sono quelle storie dei primi 900 horror tipo Frankenstein l'uomo invisibile i mostri un pochino è questa l'ambientazione in una Londra fumosa e questo è Copperpole e Fog mi pare che si chiami c'è l'intro se l'ho messo nella chat privata così poi direttamente sono andato a prendere il telegram ok va benissimo ed è secondo me di tutta la saga a macce dell'espansione più divertente dà veramente a tutti i palati la propria diciamo la propria soddisfazione ci sono quattro personaggi uno più bello dell'altro secondo me l'essere invisibile l'uomo invisibile l'uomo invisibile dottor jack in mister hide Sherlock Holmes e Dracula ok forse Dracula è quello meno inglese ma comunque se avete visto avete presente la storia un po' d'Inghilterra c'è in Dracula ecco ogni personaggio è veramente stracaratterizzato ma soprattutto in questa particolare espressione che ricordo che è stand alone voi di Amazzo potete prendere questa scatola e giocare solo a questa senza nessun tipo di problema e la cosa che gli riesce bene è che proprio ogni personaggio può soddisfare un giocatore rispetto a un altro ad esempio Sherlock Holmes è un giocatore ovviamente che punta sulla deduzione cercare di capire che carte hanno gli avversari magari la prima partita sei un po' disorientato ma dopo un po' che conosci le carte perché sono quelle diventa un personaggio piuttosto importante tra l'altro a Watson come alleato che è veramente micidiale quando ci si mette invece se volete qualcosa di stealth ok qualcosa di misterioso ovviamente l'uomo invisibile è una meccanica molto particolare perché è difficile da prendere perché sparisce e quando compare colpisce alle spalle quindi è proprio il rug dei giochi di ruolo originalissimo perché negli schierimisce ho poche volte visto personaggi sviluppati così bene con una dinamica stella perché lui sparisce cioè togli dalla pranza dove cavolo è finito però lascia degli indizi non è che sparisce dalla materia ci sono delle tracce che sono queste nebbie che lascia in giro poi che cosa abbiamo Dracula beh Dracula è un vampiro ma non c'è solo lui ha tutti i suoi servitori quindi bisogna stare attendo perché Dracula comunque prima di uccidere devi essere sicuro di avere le armi giuste perché tende a recuperare vita quindi anche se tu dici perché succhia sangue giustamente e quindi quando dici ok sta per morire col cavolo sempre con due o tre punti vita si recupera e ti dà il colpo di grazia molto forte molto molto quindi se vuoi un personaggio più tank ma comunque che ha anche molto controllo sulla mappa perché con tutti i suoi accoliti riesce veramente a fare tanta tanta roba e l'ultimo personaggio adora bellissimo Dottor Jackie Mr. Hyde che in versione Dottor Jackie non lo tiri più giù lui veramente non sciama a differenza di Dracula è un punto fisso sulla mappa che magari che continua diciamo a switchare a cambiare tra la sua natura più tranquilla quella del dottore a quella del Mr. Hyde che effettivamente è grossissimo ve la straconsiglio c'è una plancia anche bella grande su due facce quindi con due scenari diversi dove viene appunto molto importante anche le distanze qui sono studiate molto bene in questo scenario in altri ammazzati secondo me no perché vi ricordo che il colore il cerchio è diciamo la linea di vista del personaggio qui sono studiate ad hoc citando il doc scusate il gioco di parole perché vedete anche in questa immagine c'è il palazzo centrale che si presume che sia alto e dia uno sguardo sulla piazza vedete e ha questo colore giallo se guardate le caselle gialle sono esattamente sotto questo palazzo la visuale che avresti se fossi su quel palazzo ma anche il dietro però il dietro è più distretto perché stai guardando da quel palazzo è veramente studiata molto bene lì è riuscita secondo me un po' meglio delle altre anche le altre sono belle ma questo secondo me è qualcosina in più quindi e tra l'altro qui sono tutti i romanzi che bene o male abbiamo sentito parlare abbiamo almeno letto qualcosina perché anche a scuola quindi facciamolo leggere cosa dire straadorabile sì per me la marcia è il più bello è quello sempre con i raptor il cacciatore di raptor però bisogna molto bello è stato forse il primo ma questo secondo me anche con le semplici meccaniche dei singoli personaggi di minibeto scusate ma hanno veramente fatto il colpo di classe qui qui è stato il mio il mio amore di ammatched è veramente è stato consolidato con questa espansione anche le altre sono molto belle ecco inizio a dire poi devo dire il secondo titolo sarà molto più breve sul secondo titolo e allora guardando la lista che vi ho fatto vedere prima c'erano tanti titoli su robis sul cruzo non l'abbiamo nominato ma è una storia interessante tra questi c'è uno dei solitari più carini mai usciti che anche qui vi vengo incontro un gioco che trovate benissimo in italiano si chiama venerdì friday in versione inglese che è un gioco di freeze penso che è la prima volta nella mia carriera che parlo bene di un gioco di freeze anche se in realtà non sono poi così brutti i suoi giochi dai diciamocelo e venerdì è proprio il solitario che dovete avere in collezione secondo me perché è proprio un riempitivo io me l'immagino quelle domeniche d'estate che hai quei dieci minuti liberi quindici minuti liberi ti puoi dedicare a questo survival perché venerdì è lì da solo senza non c'è neanche Robinson e quindi deve cercare di arrangiarsi sperando di tornare alla vita civile ed è una meccanica molto molto carina molto avvincente difficile come cioè sopravvivere è molto difficile ci sono tantissime insidie su quest'isola che dire io lo trovo adorabile questo gioco costa pochissimo e veramente se volete iniziare a giocare un solitario che non sia le carte di briscole impilate stile Windows questo è il primo passo per un mondo più grande molto più grande questo è proprio il primissimo passo straconsigliato ok dai l'avete provato tutti vi è piaciuto è carino io lo so non ti piace il cercatore no è un solitario i solitari non li gioco questo devi giocare perché questo veramente ti prende 10 minuti puoi dedicare 10 minuti a un gioco che ti consiglia Maledice però è un solitario Maledice ti consiglia sempre giochi belli è vero è vero Maledice ha consigliato anche tanti giochi belli però io per indole se faccio un gioco di società lo faccio in società non lo faccio da solo vabbè sei in posa il pranzo da solo sei in posa il pranzo da solo hai 15 minuti e non guardi il cellulare non guardi i social gioca bene va bene va bene tocca a me e io vi parlo io vi parlo di Dante giochi sulla divina commedia ne hanno fatti non tantissimi ne hanno fatti Devil May Cry giusto? Dante Inferno no non è quello non è neanche Dante Inferno il videogioco Maledice sebbene ci sia un gioco da tavolo piuttosto vecchio che si chiama Dante Inferno che è però è German in realtà però in realtà questo mese sono usciti su meccanici crowdfunding due giochi su Dante uno è Dante Inferno quello che abbiamo visto che in realtà è un boss battle con una piccola fase di ricerca di cui abbiamo veramente parlato e detto i nostri dubbi a riguardo e poi c'è Inferno che è di cui non abbiamo ancora parlato e voglio proprio parlarvi di Inferno che è il Dante un po' più un po' più Euro un po' più German di cosa cosa si fa in Inferno ma innanzitutto ha il tabellone diviso di due fasi cioè l'Inferno come noi lo conosciamo a forma di inbuto e sopra l'Inferno cosa c'è c'è Firenze perché d'altronde Dante per entrare all'Inferno non è che è andato fino a Gerusalemme che secondo la divina commedia è il centro esatto del cerco infernale era Firenze ha trovato un ingresso lì dunque è riuscito ad entrare nell'Inferno e mentre lui scende noi cosa facciamo noi possiamo fare due cose la prima è mandare anime all'Inferno quindi noi praticamente con le nostre azioni non so che cosa stai mostrando ma le dice sei mutato ok vado avanti arrivo arrivo ok allora c'è l'Inferno quindi praticamente noi possiamo muovere le anime le possiamo far o le facciamo entrare dal limbo paghiamo Caronte le traghettiamo nell'Inferno e oppure le muoviamo attraverso i cerchi dell'Inferno nello scopo di far arrivare l'anima del preciso colore con qualsiasi posizione del cerchio del girone del colore corrispondente facendo così tra l'altro si attivano in base all'icona della posizione occupata dall'anima azioni a Firenze questa cosa un po' interessante che mi ha colpito questo aspetto che praticamente tu sposti le anime qualche cosa ci succede c'è Dante che è sceso dell'Inferno e sta percorrendo l'Inferno cosa fa Dante mentre scende nell'Inferno? scrive scrive la Divina Commedia quindi ogni volta che arriva in un girone parla a vedere chi ci ha mandato parla con i dannati quindi parla con i dannati e scopre chi ci ha mandato più anime e vi dà una specie di diplomino che in realtà non è un diplomino è praticamente Dante ha parlato con i dannati e mi ha mandato maledice qui e quindi mi ha maledice da più punti per quel girone ci prova perché poi bisogna vedere come finisce la partita scusa se ti interrompo quella lì è Beatrice? com'è? questa qui è Beatrice? questa deve essere Beatrice ma scusa torno a Natosu sei sicuro che sia all'Inferno quello di Red Mojo Game si è Red Mojo Game si eccola qua si è lui questa è Beatrice ok ora capisco un sacco di cose su Divina Commedia tra l'altro ci sono anche le creature infernali si possono fare accordi con le creature infernali per esempio c'è il Minotauro che deposita in giro per l'inferno i labirinti che sono dei salti tra posizioni nei gironi e poi c'è la fase sulla città di Firenze cosa possono fare i giocatori a Firenze? beh innanzitutto possono accusare possono accusare persone di aver commesso peccati così vengono trucidati e non più anime da mandare all'inferno e tra l'altro dopo aver fatto l'accusa dato che il giocatore ha paura che qualcuno si vendichi scappa nella torre quindi ci sono azioni per costruirti una torre così da poter mettere in salvo i tuoi meeple e che non vengono trucidati dai parenti delle vittime che hai accusato e poi ci sono diverse locazioni che ti permettono di fare piccoli portarelli non mi ricordo più cos'altro sinceramente guadagnare risorse azioni bonus se cose così insomma a seconda tra l'altro alcune si sbloccano a seconda di dove ci mandi di che anima in che posizione hai messo l'anima dannata nell'inferno nella fase precedente e devo dire che a me ha colpito molto tra l'altro vi invito ha fatto un bellissimo video anche il micro con la camicia che l'ha spiegato mi ha chiarito molto alcuni punti e devo dire che secondo me vale la pena darci un'occhiata mi ispira tantissimo questo è veramente figo è molto meglio dell'altro avevi ragione porca miseria il tabellone è una figata pazzesca ti dà proprio un senso dell'inferno di Dante il tabellone ho paura che abbia qualche problema di legibilità per cui Germano si effettivamente dovevo sapere quello che facciamo esatto però però io sono lì lo sto guardando e penso che lo pleggio alla fine ma hai detto che esce su Viga questa settimana no io non ho detto nulla forse era l'altro inferno ma ho capito che uscivo anche qua c'è Battlecon Devastation of Indies and Trials Agemonia e The Presence questa settimana strabello e tu l'hai preso questo vero? non l'ho ancora pleggiato ma penso che finora per pleggiarlo ovviamente all in cosa vuoi pleggiare altrimenti se ti prendi playmata non ti parlo più no non so neanche cosa sia un playmata se vi essi sincero fra un po' però lo voglio adesso eh sì no ma è incluso vedi anche 120 euro ho tosto un po' di roba non è male sì beh rispetto ai corsi degli American giustamente poi si vede che è stato anche ben ispirato a Divina Comedia per esempio c'hai da buttare giù le porte della città di Dite che per far passare i tironi successivi no ma è fatto proprio bene cavolo c'è un sacco di riferimenti e poi sta cosa che Dante arriva parla con i dannati e i dannati gli dicono guarda mi ci ha mandato qui Canopus ci sono un sacco di dannati che sono stati mandati da Canopus e lui dà quel coso a Canopus perché lo cita della Divina Comedia che è uno stronzo che mandava dannate all'inferno bellissimo è già mio lo voglio subito questo è anche l'autore di Tindaya che comunque a suo modo gli ingarbugli nelle regole ma fatti bene li sa fare sì allora Tindaya non mi ha fatto non mi ha esaltato se devo essere sincero però comunque il gioco c'era era molto ispirato anche quello comunque attematicamente non gli mancava nulla l'aveva studiato bene soprattutto aveva una spiegazione per ogni azione che andavi a fare su Tindaya e poi vabbè velocemente come secondo gioco e io devo citare un gioco che mi rimasto nel cuore che è il piccolo principe make me a planet davvero davvero sei parlando del piccolo doc ti ricordi il piccolo principe l'abbiamo giocato piccolo principe ho fatto anche la sigla gioco dell'anno di penso forse dieci forse nove undici non so anni fa se dice non lo sa bene perché l'ha dimostrato per un'intera giornata alla fiera di Bolzano credo quando c'era ancora una fiera dei giochi da tavola a Bolzano però voglio parlarne velocemente fare un gioco da tavolo sul piccolo principe è una cosa complicatissima perché è un libro molto particolare con un sacco di metafore e tutto il resto l'autore l'autore è stato furbo però nel gioco perché ha detto invece di parlare del libro in sé mi concentro su un singolo elemento e si è concentrato sul fatto che il piccolo principe prima di arrivare sulla terra ha lasciato il suo pianeta ne ha girati altri X non ricordo esattamente quanti quindi si tratta questo gioco che è proprio un family game eppure filler è un draft di tessere tu prendi le tessere ti costruisci il tuo pianeta non si fa il suo pianeta se vedete che ce l'ha davanti ma in base alle tessere che hai messo guardagni i punti per esempio ci sono i vulcani che ti fanno perdere punti i baobar ti fanno perdere punti anche quelli poi ci sono i personaggi laterali che sono quelli che lui incontra nel viaggio tra i pianeti che in base alle tessere che ci sono ti fanno guadagnare punti o meno ci sono i lampioni i tramonti che in base ai personaggi ti danno punti o meno le pecore le volpi poi questi non c'entravano col giro dei pianeti ma ovviamente sono stati messi dentro perché c'era un libro però come gioco secondo me era carinissimo io lo adoravo un bel family diciamo dai era un bel family sì e con questo per me chiudo quel piccolo principe quasi vorrei terminare qui la puntata per non rovinarmela a quel momento il piccolo principe è uno dei giochi più inaspettatamente bastardi che aveva mai giocato secondo me dentro la scatola doveva mettere il rosario per i moccoli per far tirare perché perché tu riesci tu riesci a giocare in modo cattivo il piccolo principe cosa fai? beccati questo principe perché no ma quello ha una regola geniale perché te non è che fai un draft solo in senso orario sei te che decidi a chi dare le tessere e quindi se immancabilmente dai una tessera dannosa a chi c'è dopo e quindi scombustano i tutti piani uno da avere tanti punti si ritrova senza non ho capito ma c'è il principe inspira calma e introspezione adesso non è che perché dicevi la piste deve essere racconti va bene l'acetuto per aria sì ma adesso allora io ti dico alla ludoteca di Firenze e cerchi di traghettare l'anima quello che ti è passato nel tessera all'inferno così Dante ti promino sì ma poi parliamoci ma che piccolo principe se costruisci pianeti brutti cioè devi anche costruirli bene perché se ti arriva l'ultima tessera poi comunque te la prendi è un agente del caos va bene sui conosciti pianeti brutti alla ludoteca a Firenze c'è la scatola che è consumata però effettivamente tutto quello che è disegnato sulle tesserine è fonte di ispirazione per le maledizioni che vengono date è uno dei giochi più giocati della ludoteca dove vado io voglio sapere cosa siete riusciti a dire col Baobab detto questo detto questo ragazzi diciamo che abbiamo visto queste rubriche abbiamo parlato tanto adesso è il momento dell'ultima rubrica quella che purtroppo quella che fa gli ascolti ma dove dove che vi intratiene che tutto quello che è so che c'è gente che si collega solo per questo ma il mondo va anche così ed è bello anche per questo quindi sapete che sarà particolarmente brutta esatto quindi fai tu partire la sigla sei pronto Davide? no fai tu però non ce la faccio ok sigla subito la responsabilità di il memento va bene dai via il dolore monitor 1 monitor 2 dove è il cursore il cursore sta assolutamente fermo la sua visione è basata al tuo movimento mi capita anche a me mi capita anche con monitor solo comunque vabbè tra l'altro io avevo cercato un un software che mi modificasse il mouse tipo un puntatore grosso così una volta c'era la possibilità di andare sul padrone di controllo e mettere che quando prima di controllo faceva un cerchio dove c'era il mouse andiamo la prossima somewhere over the rambo voi non vedreste il rambo nel macro c'è la strega cattiva a due secondi di vita mamma mia mi piace molto male però siamo con la roba e tanta roba grandissima quel tuo ioda preferito baby ioda vecchio ioda ioda alcolista divorzato di mezza età questo l'avevo già vista in giro è vera figlio perché non lo sapesse l'ultima immagine gremlins non divorziato perché divorziato non lo so questo è il classico stereotipo dei film oddio mamma questo mi ha fatto però ma anche l'espressione che maledice non riesca più a respirare andiamo avanti per cortesia non voglio nemmeno vederla questa cosa orribile ma si cade e uccide qualcuno accidenti e perché non vuoi stapparti un odino stapparti un odino certo mamma mia mamma mia ma cos'è e io che pensavo che avessimo migliorato in vero che triste ma schifo è orribile togli me lo dà la faccia per cortesia questa cosa avrò il video questa notte gli arrakes mi sarà molto buone in questo momento gli arrakes bellissimo questi crossover che sogniamo tutti gli arrakes mi piace dai gli arrakes al suo perché se ce l'ha fatta il cinghiale diventare agile snello e bello ce la posso fare anch'io perché c'è il cinghiale la credenza religiosa per cortesia toglimela dalla faccia non l'ho capita spero di non capirla è orribile è orribile oltre dai mandareni ma cos'è ma cos'è i mandareni grazie grazie siamo su inquietanti ma cos'è ma è orribile ma è troppo presto per mandare in onda queste immagini è orribile non ne baghi i dumbaghi questa è bella questa è bella questa l'avevo vista e se c'è i dumbaghi c'è anche dude il dude anche il drugo perché io non sapesse il grande le bosche dude in inglese e niente con questo abbiamo finito così debotto grazie oh mio dio è il momento più veloce della storia o gli ne hai tagliate un sacco cercatore riferico cosa è successo abbiamo tagliato un sacco ovviamente grazie grazie la censura che si mandavamo in onda vediamo arrestati il giorno dopo se non è tagliata del mandarene voglio immaginare cosa c'era ma le dice anche la religiosa è stato un pugno nello stomaco credenza no ragazzi quello di io mamma mia credenza religiosa ma il più odiato proprio di stasera è stato proprio il vermut il vermut non so se vomitare o ridere esatto ma è bruttissima è proprio stata bruttissima la chiusura col drugo esatto adesso fisserò vanguard tutta la sera finché non mi addormento almeno sarà l'ultima cosa che ho abbracciato così almeno sarà l'ultima cosa che vedrò suona molto male doc prima di chiudere gli occhi ah ok poi magari ti sogni il vermut stasera no no il vermut di 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 guarda che mi sogno il vermut e non riesco a riaddormentarmi ti chiamo tutta la notte ti chiamo tutta la notte va bene ragazzi con queste bellissime immagini con questo bellissimo pubblico con questi bellissimi gioconauti i prossimi meno belli di tutta la storia ci salutiamo e ci vediamo se non sbaglio a mercoledì prossimo non alle 21 e 30 ho imparato la tradizione alle 21 puntuale su tutti i canali di gioconauti con altri grandi momenti dedicati al nostro bellissimo mondo dei giochi da tavola buonanotte a tutti buonanotte a tutti ciao ciao